Allora, gentili ospiti e colleghi, intanto grazie per essere intervenuti a questo convegno, numerosi, e soprattutto provenienti da molte università d'Italia. Prima di passare la parola al Rettore del Politecnico di Torino, Professor Marco Gilli, vi ricordo rapidissimamente la struttura della giornata. Nella mattina verranno presentate delle proposte di riforma dello Stato giuridico della docenza, mentre nel pomeriggio si aprirà la discussione con la tavola rotonda, alla quale parteciperanno anche altri relatori, oltre a quelli della mattina. Ricordo infine, per il compito che ho, che i relatori hanno a loro disposizione per gli interventi una ventina di minuti. Passo adesso la parola per i saluti al nostro Rettore. Grazie Chiara e buona giornata a tutti, benvenuti. Benvenuti al Politecnico per i colleghi che arrivano da fuori Torino. Un cordiale benvenuto agli onorevoli parlamentari e senatori che hanno voluto onorarci della loro presenza. Ringrazio tutti, ringrazio anche in particolare i rettori che sono presenti, Professor Aiani, che è il rettore dell'Università degli Studi di Torino, e Alberto Tesi, che invece è il rettore di Firenze, nonché segretario generale della conferenza dei rettori. Lasciatemi dire due parole sulle ragioni per cui noi abbiamo pensato, insieme agli amici della Rete 29 Aprile, di organizzare qui al Politecnico questo convegno. Noi abbiamo nei mesi scorsi, quasi un anno fa, approvato un piano strategico, di cui poi vi leggerò alcune parti. In questo piano strategico ci siamo concentrati sull'aspetto che secondo noi è cruciale per rendere le università maggiormente capaci di svolgere le loro funzioni, oppure, se lo si vuole dire con un altro termine, maggiormente competitive. Ed è il capitale umano. Voi sapete che una settimana scorsa, anzi due settimane fa, abbiamo avuto l'onore di avere qua il Presidente del Consiglio a inaugurare l'anno accademico del Politecnico di Torino. E di nuovo, nella mia relazione, e devo dire che il Presidente ha perfettamente colto, ci siamo detti che il capitale umano è centrale per andare a valorizzare un Ateneo, un'università. Cosa vuol dire capitale umano? Vuol dire che gli Atenei devono essere capaci, ce lo siamo detti nel nostro piano strategico, di attrarre i migliori ricercatori, i migliori studenti, attrarre anche investimenti strategici. Ci siamo fatti l'esempio di quello che capita nelle aree maggiormente competitive del mondo, la Silicon Valley, dove ci sono due grandi Atenei come Stanford e Berkeley, o anche soltanto la vicina Svizzera, dove c'è un ecosistema estremamente efficiente che gira intorno alle TH e alle PFL. Però poi ci siamo anche detti un'altra cosa. Sicuramente le università devono avere questa capacità di attrazione. Poi nel mio discorso, che farò dopo nel mio intervento, dirò qualcosa in più. Ma dobbiamo essere capaci innanzitutto di andare a valorizzare il grandissimo capitale umano che noi abbiamo nelle nostre università. Un capitale umano che è fatto da professori, un capitale umano che è fatto da ricercatori, un capitale umano che è fatto da tanti giovani ricercatori non strutturati nelle forme più diverse. Abbiamo detto che su tutto questo dobbiamo provare ad aprire una riflessione. Io l'ho già detto tante volte, quindi ormai almeno coloro che mi hanno sentito lo sanno già, ma i dati sul personale docente dell'università sono molto preoccupanti se andiamo a guardare l'età media. Voi sapete che l'età media dei ricercatori è di 47 anni e mezzo. L'età media dei professori ordinari è 60 anni e c'è stato un recente articolo di Gian Antonio Stella sul Corriere che ci dice, dati corretti, che ci sono soltanto 15 professori ordinari con meno di 40 anni su 13.500, cioè l'uno per mille. Allora, questi dati da soli ci dicono, dicono a chi ha responsabilità di governo ai differenti livelli, chi ha responsabilità di governo a livello di Atenei, chi ha responsabilità di governo a livello di conferenza dei rettori, chi ha responsabilità di governo a livello di governo del Paese, il legislatore pure, ci dicono che bisogna intervenire. Perché con questi dati l'università italiana non è più in grado, io l'ho detto al Presidente del Consiglio, di svolgere in modo adeguato la sua funzione, che è quello di fare alta formazione, ricerca e trasferimento tecnologico. Quelli di voi che provengono dagli ambiti scientifici sanno che in matematica, per prendere il Nobel della matematica, la FILF, bisogna avere meno di 40 anni. Perché? Perché si ritiene che i migliori risultati si ottengono da giovani. Ora, noi abbiamo un'età media dei ricercatori che è 47 anni e mezzo, abbiamo 15 professori ordinari con meno di 40 anni su 13.500. Quindi capite come siamo in grado di competere con le nostre università gemelle che stanno in Europa e che stanno poco lontane da noi. Allora, tutte queste riflessioni che abbiamo fatto ci hanno indotto, nel piano strategico che abbiamo approvato, a dire alcune cose. La prima cosa che ci è stata detto, qui bisogna rimettere un attimino mano, dobbiamo rivisitare in qualche modo il ruolo del personale docente. Perché è chiaro, poi nel mio intervento sarò più specifico, è chiaro che così le cose non vanno. E allora abbiamo detto, sarà necessaria una profonda rivisitazione del ruolo e delle funzioni del personale docente, tecnico-amministrativo ovviamente, che riconosca e valorizzi il lavoro, l'impegno, le capacità, la qualità e il merito delle persone e soprattutto faccia sentire tutti parte di un progetto ambizioso all'altezza, noi parlavamo del Politecnico ovviamente, della tradizione del nostro Politecnico e delle aspettative che gli studenti, il territorio e il Paese ripongono nel nostro Ateneo. Cioè ci siamo resi conto che è importante muoverci in qualche modo, e questa è una delle iniziative, ma certamente non è l'unica, ne abbiamo fatte tante in Ateneo, per cercare di motivare un personale che per ragioni differenti, e qui insomma avremo modo di sentire queste motivazioni, tante volte appunto non è motivato. Ma poi, questo ovviamente non basta, quello che si può fare a livello di Ateneo non è sufficiente, non è sufficiente perché ci sono degli elementi che vanno oltre. E allora nel nostro piano strategico sempre ci siamo detti la seguente cosa che abbiamo scritto, abbiamo parlato delle criticità, ce ne sono tante nel Paese, anche e soprattutto a confronto con gli altri Paesi europei, ma alcune criticità ci sono sicuramente, lo dico ai parlamentari presenti, nella legge di riforma di cui poi parlerò, la 240, la cosiddetta legge Gelmini, che non è tutto male, è una legge che presenta luce ed ombre, ma sicuramente presenta alcune ombre preoccupanti. Ci siamo detti, sempre citando il nostro piano strategico, che un punto di debolezza del sistema è l'attuazione di una legge di riforma che ha profondamente modificato il modello di governo e il sistema di reclutamento del personale docente, generando evidenti criticità che andranno progressivamente corrette. Per adesso non ne sono ancora state corrette quasi nessuna. Però come? Ci siamo detti anche mediante l'apertura di una discussione nazionale nella prospettiva di una riforma complessiva dello Stato giuridico della docenza universitaria. Allora, in qualche modo, nel nostro piano strategico, ci siamo proposti di farci promotori, nel nostro piccolo certamente come Politecnico, dell'apertura di una discussione nazionale che non può che investire il legislatore, perché è una discussione sullo Stato giuridico che, come sapete, è per fortuna ancora riserva di legge. Questa è la motivazione per cui abbiamo accolto la proposta della Rete 29 Aprile, in realtà degli amici che sono qua al Politecnico della Rete 29 Aprile, di avere qua questo convegno, che certamente ha un titolo che può anche parere provocatorio, il ruolo unico, una rivoluzione necessaria, ma ha come obiettivo di partire di lì, partire dalle proposte sul ruolo unico, poi io dirò qualcosa durante il mio intervento, però proprio stimolando una discussione nazionale nella prospettiva di una riforma dello Stato giuridico della docenza. Questi sono un po' gli obiettivi, le ragioni per cui abbiamo voluto accogliere questo convegno. Ringrazio ancora tutti per la partecipazione e adesso darei di nuovo la parola a Chiara. Andiamo avanti con gli interventi programmati. Grazie. Allora, ringrazio il Rettore anche per queste parole di augurio rispetto all'importanza di questa giornata torinese. E passo la parola alla relazione introduttiva svolta da Massimiliano Tabusi, Rete 29 Aprile, docente di geografia presso l'Università per stranieri di Siena. Noterete che per la Rete 29 Aprile il punto interrogativo si trasforma in punto esclamativo, vale a dire che per noi il ruolo unico è una rivoluzione necessaria. Intanto grazie di cuore al Rettore del Politecnico per il suo saluto, la sua introduzione e la sua attenzione per questi temi, che effettivamente sono dei temi che dovranno, secondo noi, scendere in campo prossimamente. Perché l'Università sta per affrontare delle grosse criticità che cercherò anche di affrontare nell'intervento. E poi come Rete 21 Aprile ci fa particolarmente piacere essere qui, proprio in questa sala, a parlare di questa proposta, perché questa è una proposta per il complesso dell'Università, perché noi crediamo che il complesso dell'Università pubblica italiana vada valorizzato e occorra investire nel capitale umano, anche un po' nei finanziamenti, perché l'Università, la ricerca e l'alta formazione possono andare avanti. Non siamo convinti che una soluzione possa essere fare l'Università di serie A e di serie B, perché crediamo che sia il caso di investire sull'intero sistema, perché ne ha bisogno l'Italia nel suo complesso. E quindi cerchiamo di dare le nostre proposte in questa luce. D'altro canto i colleghi di Roars, avrà visto già anche il magnifico Rettore, ci hanno fatto capire come le classifiche a volte possano non dare i risultati che sono attesi. E quindi forse nel sistema del suo complesso è giusto investire. Dunque, due parole sulla Rete 29 Aprile per contestualizzare che cosa è e da dove arriva questa proposta. Il ruolo unico non è una proposta originale della Rete 29 Aprile, ma è una proposta che nel tempo è tornata più volte. Ma la Rete 29 Aprile nasce nel 2010, quando alcune persone, prevalentemente ricercatori, si rendono conto che l'Università era al centro di un circolo vizioso, che funzionava grossomodo così. Una forte delegittimazione al ruolo dell'Università e dell'alta formazione di fronte all'opinione pubblica, spesso fatto anche con il contributo di docenti, cioè di universitari che stavano all'interno degli Atenei. E di fronte a questo le reazioni degli Atenei erano purtroppo scarse o nulle, almeno in quel periodo. A questo seguiva una riduzione delle risorse, o direttamente oppure dietro dei paraventi, di quali parole sacrosante come merito, eccellenza, poi di fatto si andava a tagliare meno in alcuni Atenei e più in altri, ma c'erano sempre dei tagli. E poi c'erano delle normative che rendevano più complicato fare ricerca e università in Italia, e quindi i difetti aumentavano, il circolo vizioso ricominciava. Nel 2008 gli studenti dell'ONDA avevano ben evidenziato tutta una serie di problemi, ma insomma nel 2010, per merito soprattutto di tre colleghi, Alessandro Ferretti, Guido Mula e Alessandro Pezzella, si coagula un gruppo che poi arriverà fino a 12.000 ricercatori con una serie di proposte. E purtroppo quello che noi dicevamo in quei momenti si è puntualmente verificato, tutte le criticità della legge Gelmini sono verificate, non è però un elemento di vanto, insomma sappiate anzi di profonda frustrazione, è un po' come essere legati sui binari della ferrovia e vedere il treno lontanissimo a chilometri e chilometri di distanza, però non poter fare assolutamente niente per modificare la situazione. La precarietà che era molto elevata prima adesso è diventata norma ed è un problema fondamentale, ha bruciato più di una generazione, ditto allo studio non ha visto migliorare purtroppo la sua tutela. I passaggi burocratici che occorre svolgere sono aumentati sempre di più creando dei problemi a chi opera all'interno dell'università e la comunità accademica si è frammentata in una maniera eccezionale, mai vista prima, ne riparleremo tra poco. Le persone che si trovano in complessi percorsi sono spesso di fronte a vicoli senza uscita che li fanno uscire frustrati e demotivati da questo percorso intrapreso. Noi abbiamo provato in ogni modo a denunciare questi rischi, ad attivarci, abbiamo fatto quello che fanno gli universitari, convegni, seminari, assemblee, gli interventi pubblici, siamo andati anche alle feste di partito, siamo andati alle audizioni, abbiamo presentato proposte di legge, emendamenti, alcuni erano passati ma poi con la fiducia sono stati cassati. Insomma, l'abbiamo provato un po' tutte fino a stare insieme agli studenti, pregare i dottoranni nelle piazze e perfino sui tetti, lo vedete nelle foto e magari ve lo ricordate, perché eravamo e siamo ancora, per la verità, convinti che sia un dovere preciso agire in tutti i modi possibili per difendere e ricostruire e migliorare l'università. Ma siamo qui per parlare del ruolo unico e quindi con lo spirito propositivo che ho appena finito di raccontare, noi proviamo a supportare la proposta del ruolo unico della docenza. Ricordo che questa proposta è supportata da tutte le organizzazioni universitarie, non soltanto dalla Rete 21 Aprile, tutti i sindacati, le organizzazioni, anche quelle degli studenti che si riuniscono in un consesso che si chiama intersindacale, hanno più volte avanzato questa proposta. Che cos'è il ruolo unico? In sintesi, la definizione poi verrà ripresa in altri interventi e sarà fatta meglio di me, ma nella sostanza è un sistema di organizzazione della docenza universitaria che è basato sulla persona, ma anche al tempo stesso sulla comunità accademica, come una comunità di uguali, di pari. E questo è determinante. Diciamo che chi è nel ruolo unico ha il titolo di professore, avrebbe, avrà il titolo di professore uguali doveri di ricerca, di didattica, di servizio, ma anche uguali potenzialità di accesso alle stesse cariche accademiche. E la valutazione che ciascuno avrà nel tempo determinerà la progressione stipendiale che a quel punto è individuale, perché segue le valutazioni che ciascuno avrà avuto durante il suo percorso. Nello schema forse si coglie. Allora, sì, poi riprendendo quello che diceva il Rettore sulla medaglia Filz, beh, la medaglia Filz non la danno solo agli ordinari, la danno anche ai ricercatori e agli associati, quindi questo ci dice forse che effettivamente in Italia questo sistema ha qualche criticità. E qui voglio soffermarmi qualche minuto su questo. Per capire la proposta dobbiamo chiederci se il sistema che c'è oggi, che abbiamo ereditato, è un sistema efficiente, se risponde ai bisogni dell'università, della ricerca contemporanea, se valorizza le persone e le competenze che oggi sono all'interno del sistema. E purtroppo molto spesso a margine del sistema. Questo è un problema centrale. Da dove arriva l'attuale divisione di fasce? È un percorso lungo. Io adesso cercherò di comprimere parte del discorso, perché ci sono altre cose interessanti su cui soffermarsi. Ma chiaramente dico che arriva da lontano. Non voglio fare il discorso sul Medioevo e sui baroni, perché sono, diciamo, libelli e pamflet che purtroppo affliggono l'università e che usati ad arte servono a colpirla. E quindi assolutamente non mi metto su questa strada. L'università che abbiamo oggi, l'organizzazione che abbiamo oggi, arriva da quella università d'élite, che c'è stata in Italia fino agli anni Sessanta, alla metà degli anni Sessanta, in cui il concetto centrale era il concetto della cattedra. C'erano pochi studenti, c'erano pochi docenti. E c'era una responsabilizzazione del cattedratico. Il cattedratico era colui il quale aveva, buongiorno Manuela, aveva la responsabilità della sua scuola. Chi lavorava con lui si attendeva che prima o poi questa persona di riferimento si attivasse anche per le proprie prospettive di carriera. In questa fase, in questa fase e fino alla fase recentissima che abbiamo fino ad oggi, perché le fasce sono poi nate nel tempo, hanno cambiato nome, insomma il senso era quello, diciamo, di coloro che collaboravano con la cattedra, i concorsi di fasce avevano un valore determinante, perché erano l'unico momento di valutazione della persona. E quindi è per questo che avevano un valore centrale, perché arrivare da ricercatore associato e ordinario significava aver superato delle valutazioni. E questo era centrale. Oggi però la situazione è mutata completamente. Non si fanno valutazioni soltanto nel momento in cui si fanno i concorsi per passare di fasce. Questo non hanno fatto un gruppo di ricercatori esaltati. È la realtà nuova. Nessuno si può aspettare di nascondersi da qualche parte non essere valutato semplicemente perché non vuol fare il concorso per associato o per ordinario, perché la valutazione è continua e in mille modi. Abbiamo la valutazione personale per gli scatti stipendiali, la valutazione dei dipartimenti, la sua URD. Non vi sto a dire, conoscete meglio di me, VQR e quant'altro. E noi, come Rete 29 Aprile, dall'inizio parliamo di valutazione. Cioè siamo per una valutazione, non per un sistema che lasci tutti, come dire, liberi di non far nulla. Siamo per un'università che funzioni. Questo è da dire assolutamente in modo forte. Queste valutazioni però, molto spesso, hanno criteri identici. Quando si valuta un ordinario, un associato, un ricercatore, gli si chiede due o tre pubblicazioni, a seconda del VQR, si valuta esattamente allo stesso modo. Non è che l'ordinario viene valutato in un modo, il ricercatore in un altro e l'associato in un altro modo ancora. Ci si aspetta che tutti contribuiscano alla comunità universitaria nello stesso modo, in un modo molto simile. E allora ci si può domandare... Ecco, questa slide doveva venire dopo, ma mi ci soffermo un attimo adesso, perché è molto interessante. È molto interessante anche alla luce di come si organizza l'università. A sinistra abbiamo come si entra in un'università a tempo indeterminato, come si entrava prima. Uno faceva la laurea, dopodiché non era detto, ma poteva fare il dottorato o l'assegno di ricerca, poi faceva il concorso al ricercatore, e entrava all'università. In teoria doveva insegnare se era professore associato, la linea nera si sposta in alto e dice che comunque anche i ricercatori insegnavano, perché è una situazione che conosciamo. Dopo la 2.40 che cosa succede? Succede che la laurea sia sdoppiata a tre anni e due anni, e quindi questo è un allungamento, magari non per il Poli, che già era cinque precedentemente, ma per altri atenei sì. Poi il dottorato, poi l'assegno di ricerca postdoc, che in qualche modo è vincolante, perché sono caratteristiche che servono poi per i concorsi di RTD. Poi la proroga degli assegni di ricerca. Oggi, grazie a Manuela Ghizzoni, si è un po' risolto un problema contingente, ma quel problema si ripresenterà, perché aver spostato il limite da 4 a 6 anni recentissimamente con un emendamento, la legge sono un errore di stabilità, salva qualcuno che stava in scadenza, ma comporta tutta una serie di problemi. Per esempio, permanano con i 12 anni di limite complessivo e quindi questo è un problema che troveremo più avanti. E dopodiché il concorso da RTDA, poi la proroga di due anni per RTDA, il concorso da RTDB, e poi le abilitazioni, e poi dal professore associato. Il verde sono il tempo indeterminato, il giallo è il precariato. Allora, le linee nere nella parte destra ci dicono che alcune università stanno facendo fare parte dei corsi anche ai dottorandi e anche agli assegnisti. Insomma, la necessità di docenza è tantissima e come vedete si è espansa nel giallo che è il regno della precarietà. Questa cosa anche per i professori ordinari diventerà una babbele. Perché? Perché andranno gestiti un sacco di passaggi per i propri collaboratori o quelle persone che si vogliono far lavorare. Perché prima c'è il concorso di dottorato, poi bisogna trovare un assegno di ricerca, poi magari andare in proroga, poi bisogna fare un concorso da RTDA. Tutto questo non è automatizzato che uno vince il primo e poi si va a sequenza. Pensate il carico di lavoro enorme che c'è da affrontare per tutti questi passaggi. E un'altra cosa, adesso tutto questo deve ancora partire in gran parte. Per alcuni versi è partito e per altri partirà. E ci sembra tutto normale e tutto bello. Tra 4-5 anni tutti questi nodi arriveranno a scadenza contemporaneamente. E noi avremo persone che hanno finito RTDA che vorranno entrare come RTDB se non si sa che cosa andranno a fare. RTDB che dovranno avere avuto l'abilitazione e se no l'abilitazione come si sa è saltata per un anno quindi diventa complicato portarla avanti. Cioè dei nodi pazzeschi. Questa è una complicazione che le nostre università dovranno affrontare tra poco. Un altro treno come quello che ho detto prima speriamo questa volta di affrontarlo con un'altra impostazione. Allora ritorno al discorso del ruolo unico ritorno al discorso che facevo prima. Anticamente diciamo il docente era un po' l'unico che faceva lezione aveva un senso si prendeva una responsabilità della sua scuola e quindi diciamo questo era così organizzato. Oggi come funziona per esempio nelle aule o nei laboratori? Beh se noi entriamo in un aula o in un laboratorio guardando la persona o sentendola parlare non possiamo sapere se è un RTDA un RTDB un associato un ordinario un ricercatore oddio ci possiamo arrivare dall'età ma anche questo ci dice molto su come funzioni male il nostro sistema universitario e però e però diciamo c'è una commistione di persone quello può essere un precario oppure può essere un ordinario che è ben differente gli studenti queste cose non le colgono naturalmente e per la verità neanche gli atenei quando si parla di didattica quando fanno diciamo le pubblicazioni che spiegano agli studenti la guida dello studente lì non ci mettono RTDA RTDB PA PO ma mettono professore a tutti beh questo è anche diciamo ragionevole da un certo punto di vista allora questo in qualche modo ci deve far riflettere l'enorme moltiplicazione delle figure e tutti sostanzialmente fanno tutto allora la differenziazione potrebbe essere sulla ricerca ma diciamo che sulla ricerca è ancora peggio di quello che ho detto prima perché non risulta che nessuna rivista internazionale ti chieda scusa ma sei un professor ordinario un associato un ricercatore ti chiede di fare un buon paper se è buono lo pubblicano se non è buono te lo pubblicano fine questo non è che vale solo all'estero vale pure in Italia a parte per le riviste ma vale pure per il ministero vale pure per l'anvur addirittura no? cioè nella peer review della VQR ricercatori hanno valutato i lavori di ordinari cioè quando si è trattato di fare quel tipo di lavoro nessuno si è scandalizzato no? perché se uno è competente poteva valutare anche gli altri quindi la comunità di pari in qualche modo già esiste per certi versi e per altri versi però è limitata ovviamente non sto qui a dire perché chi conosce la rete 29 aprile lei già lo sa ma forse è bene che io lo accenni che la valutazione come è stata fatta in Italia è stata disastrosa indifendibile per quanto riguarda diciamo la sua prospettiva scientifica e ha rischiato di danneggiare il concetto stesso di valutazione perché se la valutazione è quella poi è chiaro che ha una brutta fama la valutazione diciamo noi deve funzionare deve servire a far funzionare meglio l'università se serve soltanto a capire come e cosa si deve tagliare allora è un discorso ben diverso allora nella situazione di tutti i giorni esiste questa parità di fatto sotto vari profili si potrebbe anche lasciare questo sistema che abbiamo ereditato se non facesse danni però il problema è che di danni ne crea cioè mantenere un'università 0.1 in un'epoca 2.0 diciamo crea un sacco di problemi ora mi soffermo un attimo su questo la slide sarà spiegata tra poco diciamo questo gioco di società credo di non rivelare un segreto prende un sacco di tempo a tutti gli universitari gran parte delle chiacchiere di corridoio delle telefonate vertono su come funziona il percorso i concorsi e come ci si può organizzare anche gran parte delle scelte che fanno le università hanno a che fare con tutti questi passaggi di fascia con questi colli di bottiglia poi tra l'altro totalmente inutili insomma almeno a nostro modo di vedere tutte le persone che si trovano allo stesso livello questo è un primo problema si trovano ad essere nemiche tra di loro quindi questo è un problema serio perché l'università deve essere collaborazione se l'università diventa conflitto continuo sparisce uno dei nodi che fa fare buona ricerca anche l'insegnamento delle discipline insomma lo sappiamo è organizzato un po' alla luce di questo risico complessivo in cui mettere dei CFU o mettere un corso è un po' come prendere la camciacta e spostare i carri armatini per chi si intende di questo gioco ma comunque più che nella prospettiva della utilità per la formazione a volte ci sono altre considerazioni taglio un po' questa parte perché credo che sia ben compresa da tutti per quanto riguarda la slide devo dirvi che una volta ho assistito una divertente spiegazione che un collega olandese che però conosce bene l'università italiana faceva dell'università italiana ad un altro collega australiano che gli aveva chiesto come funziona più o meno è andata così mi chiedi come funziona la carriera universitaria in Italia bene sai quegli studi legali americani tipo Konsky e associate in cui pochissimi soci fanno tutte le scelte e se decidono di cooptare qualcuno gli cambiano la vita cioè chi ci lavora dentro questi studi assassinerebbe il vicino pur di salire di piano ecco più o meno funziona così soltanto che la parola associati ha un significato diverso li raccontavo e ora questo non è un difetto antropologico degli universitari non è che devono essere così è che la normativa porta a questo e probabilmente senza nessuna logica spinge in senso assolutamente contrario alla collaborazione senza che questo comporti nessun vantaggio per gli atenei e per le università un sacco di perdite di tempo ci si fanno molti nemici e la cosa non migliore rimetto la slide del ruolo unico fra poco mi avvio alle conclusioni e ringrazio già di non essere stato ripreso i colleghi che guidano si fanno da moderatori diciamo che questo sistema finisce per snaturare la partecipazione alla gestione degli atenei e anche alla condivisione delle responsabilità perché se le cose funzionano così molte persone pensano soltanto alla loro progressione di carriera e si disinteressano del funzionamento collettivo degli atenei e questo è un problema centrale perché il carico rimane sulle spalle di pochissime persone ora sembra che io abbia descritto il paradiso degli ordinari non voglio dire affatto questo anzi quasi il contrario lo sanno quegli ordinari che hanno delle responsabilità importanti che devono gestire dei corsi che devono gestire degli atenei che devono mandare avanti delle discipline su di loro come fosse una linea di faglia si scaricano tutte le contraddizioni dell'università perché è su di loro che poi pesano le scelte tra 20 persone meritevoli che aspettano da un sacco di anni in concorso quale scelgo quei due quei tre e gli altri come continueranno a lavorare nell'ateneo oppure come chiedo a quella persona a quel ricercatore a quell'associato di proseguire come se nulla fosse nel momento in cui nell'ASN magari per il risico di cui vi ho parlato prima gli hanno detto che lui non è abilitato a fare quello che fa da dieci anni cioè com'è possibile portare avanti un'organizzazione di questo genere adesso vi faccio una domanda un po' provocatoria ma al mio modo di vedere serve a riflette su questioni molto concrete ma perché oggi un ateneo dovrebbe fare un bando da ordinario perché in molti atenei i ricercatori a tempo determinato tipo A e tipo B e questo dipende da un regolamento possono fare più ore di lezione degli ordinari e forse sono spinti a fare più ricerca perché devono guadagnare di più devono progredire di carriera allora qual è il motivo per fare un concorso da ordinario insomma la risposta è complesso darsela poi bisogna dire che il numero di ordinari è destinato a ridursi è fatalità il turnover non è ancora arrivato al 100% ma anche se fosse non è che ogni ordinario cash se ne fa un altro quindi fatalmente il numero di ordinari si riduce ci saranno moltissimi pensionamenti ci sono i vincoli economici e l'intero sistema sarà sempre meno sostenibile non tanto e non solo per la carenza di risorse ma proprio per questa organizzazione che massimizza inutilmente gli aspetti negativi e le contraddizioni e non incita alla collaborazione allora se gli ordinari diminuiscono e il peso degli adempimenti aumenta sempre di più come è gestibile questa cosa senza coinvolgere altri ma se gli altri vengono coinvolti e non hanno pari dignità accademica come si può gestire questo sistema in questo modo ci sono per esempio dei ricercatori che fanno i responsabili dei corsi ci sono anche gli associati che lavorano in posizione di responsabilità però capite che è molto complicato da un punto di vista poi bisogna dire che se si riduce il numero degli ordinari cambiano gli equilibri dell'università perché avere meno ordinari in una disciplina significa non solo avere meno ordinari in quella disciplina ma avere meno chance di avere associati in quella disciplina ricercatori in quella disciplina ricercatori a tempo determinato in quella disciplina e giù fino ai dottorandi e questo pure va considerato dall'altro canto la leggera riapertura di progressioni da professore associato a professore ordinario necessariamente inferiore alle attese sedimentate nel tempo accenderà dei conflitti enormi che fino adesso stavano sotto la cena e i concorsi non si possono fare che volete ma adesso se se ne riapre uno cosa diciamo a tutti gli altri che stavano lì ad attendere da tempo allora in tutte le categorie io vi ho parlato degli ordinali associati del precariato che è il problema più grande dell'università ho fatto solo cenno mi perdonerete ma è il problema più grave dell'università e un po' col ruolo unico si prova a risolverlo in tutte le categorie la frustrazione e il disincentivo alla collaborazione sono destinati a aumentare con questo sistema e i problemi ad aumentare lo dicevo prima taglio perché immagino di essere già stato lungo e sono dei rischi di frammentazione e disgregazione dell'università che a noi però appaiono così talmente gravi quanto sono facilmente evitabili perché con il ruolo unico questi problemi cambiano con il ruolo unico un nuovo ricercatore un nuovo associato nella mia disciplina non è il mio nemico ma è la persona con cui faccio meglio didattica faccio più ricerca e potenzio quello che io posso fare è un cambiamento di paradigma la nostra idea di università è esattamente inversa rispetto a quella di una continua corsa verso riserve garantite di potere ecco questo ci tenevo a sottolinearlo d'altro canto noi ci troviamo qui rubo la battuta a Danilo Bazzanella ma la trovo troppo efficace quindi non resisto alla tentazione noi siamo in un paese in cui una persona giovane può fare il presidente del consiglio però non può fare il direttore di partimento per esempio o il rettore di un ateneo insomma questo è piuttosto curioso me lo dovrete concedere vado alla conclusione che cos'è il ruolo unico insomma una proposta che libera alle straordinarie potenzialità ed energie di collaborazione che ci sono negli atenei è una proposta al passo con i tempi perché appunto punta a valorizzare tutte le qualità minimizzando le rendite di posizione è una proposta assolutamente non utopistica perché spero di avere in qualche modo dimostrato che già oggi per molti versi siamo in un ruolo unico se non per le decisioni è una proposta di responsabilità perché in questo modo tutti gli universitari si faranno carico dei loro atenei delle loro prospettive e così la comunità può funzionare meglio può essere più forte si può appuntare a ottima ricerca e formazione di qualità noi siamo veramente grati a tutti quelli che sono qui le istituzioni che rappresentano e naturalmente spetta al Parlamento e al Governo applicare le soluzioni che a noi sembrano semplici ma insomma sono effettivamente coraggiose e innovative noi speriamo che la politica voglia intraprendere questa strada troverebbe la nostra collaborazione negli atenei negli organi e nelle istituzioni come il Consiglio Universitario Nazionale e in ogni modo in ogni caso però chiediamo proprio alla politica di puntare sull'alta formazione e sulla ricerca e domandiamo con forza di tutelare e preservare l'università pubblica che per noi è un valore non negoziabile da difendere con ogni mezzo democratico il ruolo unico come tutte le rivoluzioni sarebbe in qualche modo anche un ritorno alle origini l'università nasce nel Medioevo come comunità di pari prendendo il proprio modello di organizzazione dalla società civile è venuto forse il momento di tornare a essere cittadini comunità dentro le nostre istituzioni pubbliche libere aperte grazie ringrazio Massimiliano Tabusi per l'analisi dettagliata e ricca svolta sulla situazione dell'università pubblica italiana passo adesso la parola a Danilo Bazzanella coordinamento polito rete 29 aprile docente di analisi matematica e componente del consiglio di amministrazione del Politecnico di Torino consigliere eletto del consiglio di amministrazione invito anche l'onorevole Emanuele Ghizzoni se crede di sedersi al tavolo con tutti noi grazie Io sono Danilo Bazzanella, del Politecnico di Torino, gioco in casa, la rete 29 aprile che ormai esiste dal 29 aprile di 5 anni fa e abbiamo discusso molto al nostro interno di tutti i problemi che ha l'università come ha appena raccontato benissimo il collegato Abusi. La nostra idea di questo convegno adesso è di portare il nostro contributo, la discussione interna, portarla verso l'esterno e cercare di ottenere non solo consensi alle nostre proposte ma anche cercare di ottenere delle risposte anche critiche in modo che si possa arrivare tutti insieme a trovare delle soluzioni che possano essere condivise e quindi poi applicabili perché uno dei difetti delle riforme non condivise è che poi è difficile se non impossibile portarle fino in fondo nell'applicazione. Il mio intervento cercherò di essere, non limitarmi a enunciare dei principi perché i principi li ha enunciati benissimo il collegato Abusi, adesso volevamo andare un po' più nelle cose concrete di come si potrebbe in concreto effettivamente realizzare un sistema che possa essere basato sul ruolo unico. Noi lo intendiamo come già stato detto il ruolo unico come essenzialmente basato sulle persone quindi noi siamo convinti che l'importante sia il valore della persona e non tanto la fascia in cui viene inquadrato che oramai come abbiamo detto già finora è un'appartenenza che non ha più una relazione così stretta con il lavoro effettivamente svolto. Noi crediamo che si possa sostituire un sistema fatto in fasce distinte con passaggi per concorso comparativo da una fascia all'altra come è adesso e quindi con due valutazioni essenzialmente nella carriera invece con un sistema di valutazione continua durante tutta la carriera valutazione seria globale delle persone quindi dell'attività di ricerca, di didattica e dell'attività gestionale organizzativa che viene portata avanti che permette agli atenei di funzionare. Vediamo quali sono le caratteristiche fondamentali che noi vediamo per il ruolo unico. Allora ovviamente pari diritti e pari doveri il senso del ruolo unico è che le persone appunto il ruolo sia unico se manca questo elemento crolla tutto e quindi che possono essere letti a tutte le cariche che abbiamo in università. la condivisione delle responsabilità sarebbe massima perché potremo insieme condividere come comunità accademica le responsabilità della gestione. Vediamo le caratteristiche che secondo noi dovrebbe avere e sono estremamente importanti. la separazione tra il reclutamento e la progressione è uno degli elementi che noi riteniamo fondamentale e che nella nostra proposta di ruolo unico ovviamente esiste. La separazione perché noi crediamo che sia fondamentale? perché in questo momento è impossibile essenzialmente per gli atenei programmare una seria sviluppo dell'università perché noi decidiamo, io faccio parte del consiglio di amministrazione, decidiamo di investire in fare dei concorsi e poi però non sappiamo cosa abbiamo fatto perché poi arriva la commissione fatta quasi tutta di esterni che decide chi vince questo concorso e il concorso lo può vincere una persona che è esterna all'università se è il più bravo, giustamente, e quindi abbiamo fatto reclutamento. D'altra parte se invece vince una persona che è già interna all'università invece è stata una progressione di carriera e addirittura con le norme attuali può anche vincere una persona che ha già quel ruolo in un'altra università e quindi un trasferimento. Quindi noi investiamo delle risorse ma non sappiamo in che cosa le abbiamo investite lo scopriremo dopo e peggio ancora non solo non sappiamo in cosa le abbiamo investite ma non sappiamo neanche quanto abbiamo speso, quanto ci costerà questo investimento perché l'investimento dipenderà molto da come finisce il concorso quindi se vince un interno o un esterno può costare anche più del triplo in termini di POM. Questo evidentemente è una cosa che non permette di gestire adeguatamente Scusate, un po' di problema di gola stamattina Dicevo, non si può assolutamente gestire un'università in questa maniera dove non sai cosa stai facendo e non sai cosa ti può costare Il ruolo unico permetterebbe di separare nettamente l'irreclutamento dalla progressione quindi uno sa che sta investendo per reclutare delle persone e contemporaneamente sa quali sono le risorse che vuole investire invece per la progressione che sarebbero separate. Il trasferimento a maggior ragione dovrebbe essere anche quello gestito in un modo separato e non mescolato nell'attuale concorso a norma della Gelmini il concorso minestrone come diciamo un po' per scherzo c'è dentro un po' di tutto, non sappiamo cosa stiamo facendo Il ruolo unico porterebbe anche a una maggiore flessibilità dell'utilizzo delle risorse umane perché ovviamente si fanno fare alle persone le cose che sanno fare meglio e non gli si limitano delle possibilità solo per la semplice appartenenza a una fascia piuttosto che all'altra Vediamo di andare un po' più nel concreto Allora volevo separare, giustamente ho proposto di farlo adesso li separo anch'io, prima parlo di reclutamento e poi di progressione Il reclutamento, vediamo molto schematicamente, lo vedremo in questa maniera Un'unica figura per ruolo, professore confermato, professore junior, va benissimo non è il nome l'importante, il Kun ha parlato di professore junior, è un ottimo nome L'importante è che sia una unica figura che sia in tenure track di una durata ragionevolmente lunga perché deve avere la persona al tempo di sviluppare delle competenze per poi poter entrare nel ruolo unico dei professori quindi ovviamente noi adesso abbiamo scritto 3-5 anni, può essere qualcuno 16 va bene, non importa, le questioni tecniche non sono in questo momento così centrali Poi noi pensiamo a una abilitazione nazionale e qui qualcuno magari sobbalza un po' sulla sedia perché l'abbiamo appena finita l'abilitazione non è stata del tutto esente da pecche come scrivevo qui però noi pensiamo a un'abilitazione nazionale che non sia quella che c'è appena stata noi crediamo che sia importante che visto che la scelta è locale il concorso è locale ci sia un contrapeso di una verifica nazionale della competenza delle persone ma pensiamo che la verifica deve essere fatta in modo decisamente diverso dall'abilitazione che c'è appena stata su questo si potrebbe parlare mezz'ora, forse anche farci un convegno sull'abilitazione ma non voglio dilungarmi, citerò soltanto il documento del CUN che ha fatto il CUN che è molto ben fatto che ha messo in evidenza parecchi delle pecche, le più gravi perlomeno pecche dell'abilitazione ha fatto anche delle proposte tra l'altro di cambiamento, di miglioramento che speriamo che vengano ascoltate anche dal Ministero quindi unica figura per ruolo, abilitazione nazionale e poi c'è l'ingresso naturalmente quello deve avvenire per valutazione della persona non pensiamo a un nuovo concorso, il concorso è all'inizio lì come in tutte le tenure track la persona viene valutata nella sua competenza e entra nel ruolo unico pensiamo che un'ultima cosa che scriviamo è la valutazione ex post perché anche qui pensiamo che così tanta responsabilità a livello locale debba essere, deve avere un contrapeso certo nell'abilitazione nazionale ma anche nella valutazione delle strutture ex post questo, attenzione che effettivamente la moda attuale delle valutazioni sono valutazioni un po' semplicistiche diciamo uno dice come lo valuto una struttura prendo qualche indicino relativo alle persone qualche indice bibliometrico, li sommo, faccio la media qualche formuletta e voilà che ho valutato le strutture noi non abbiamo nessuna idea che questa sia una valutazione seria avrebbe delle conseguenze forse peggiori che non farla la valutazione per noi la valutazione intendiamo la valutazione di un progetto della struttura, della capacità di raggiungere gli obiettivi che la struttura si è posta, della capacità di gestire la didattica la capacità di creare un ambiente adatto per fare una ricerca di alto livello e tutto messo insieme, anche la terza missione un ateneo come il Politecnico dovrebbe essere in grado di valutare le capacità sul trasferimento tecnologico e invece in altri ambienti probabilmente la capacità di diffondere la cultura nella società, insomma ci sono tanti aspetti tanti importanti ruoli dell'università andrebbe valutato a tutto tondo una struttura questo avrebbe una diversità che relazione ha col reclutamento? beh è chiaro che se tu fai un pessimo reclutamento come regola metti su una compagine che non può fare dei buoni risultati globali magari i numerini li metti a posto con qualche trucchetto riesci a fare avere tutti un numero minimo di pubblicazioni però se fai una valutazione seria questo è molto più difficile quindi emergerebbe un reclutamento non all'altezza io sono convinto che sia importantissima quest'ultima parte l'abilitazione come contrapeso ma siamo ancora più convinti che quello che potrebbe veramente cambiare le cose quello che è la rivoluzione stia prima di questo cioè sta nel ruolo unico perché finora, per organizzazione, non per cattiveria quello che capita è che il reclutamento ma un po' tutte le scelte vengono fatte sono di responsabilità di poche persone dei pochi ordinari di quel settore scientifico disciplinare a volte magari uno o due persone allora è chiaro che una scelta così limitata se la persona è un maestro illuminato può fare la scelta migliore per l'Ateneo però è chiaramente più a rischio di interpretazioni anche di errori anche di errori non dico che siano solo volutamente è chiaro che dare una responsabilità sempre a pochissime persone noi siamo convinti che invece la rivoluzione del ruolo unico sarebbe proprio quella di condividere maggiormente le scelte e questo potrebbe diminuire i comportamenti scorretti anche i possibili errori che possono fare le strutture non solo nel reclutamento in generale nella programmazione nell'organizzazione delle strutture e passiamo quindi alla progressione nella progressione la vediamo completamente separata e quindi non per concorso non mescolata con il reclutamento ma con ovviamente pensando al ruolo unico pensiamo a un'unica scala stipendiale in cui si passa di livello in livello con valutazioni continue quindi non più due valutazioni nella vita ma valutazioni continue durante tutta la carriera con passaggi di classe noi abbiamo cercato di fare una cosa un po' tecnica senza esagerare per esempio come è già adesso tra l'altro nella Gelmini ogni tre anni con una valutazione di nuovo l'ho scritto un sacco di volte in questi lucidi una valutazione complessiva dell'impegno didattico di ricerca e gestionale proprio per questo crediamo che questo tipo di verifica debba essere locale perché è finto il concorso che valuta anche l'attività organizzativa anche nei nostri concorsi attuali ci sono dei bandi scritti anche bene dove dovrebbe contare tutto però poi l'attività didattica chi la valuta se non nel dipartimento dove lavori è difficile che un esterno della commissione possa valutarla e il contributo gestionale organizzativo peggio ancora quindi questa valutazione noi la vediamo come locale anche se naturalmente già così è nella Gelmini tra l'altro è obbligatorio fare un regolamento di Ateneo su questo non che ognuno se lo fa come vuole la valutazione ma probabilmente ci vorrebbe anche un decreto attuativo per porre dei paletti su come va fatta questa valutazione qui vorrei dire due parole che non ho scritto sul lucido io sono abbastanza preoccupato di questa valutazione perché c'è il rischio che si vada e questo però non dipende dal ruolo unico io spero che l'anno prossimo dovremo farla perché se si sbloccano gli scatti speriamo bisognerà fare una valutazione sono ottimista mi dite non lo so però insomma prima o poi li sbloccheranno speriamo gli scatti bisognerà gli scatti diventano meritocratici quindi questa valutazione la dobbiamo fare da subito anche senza la prospettiva del ruolo unico io questo lo vedo abbastanza pericoloso perché vedo due tendenze estreme tutte e due molto negative che si possono evidenziare in un regolamento che deve essere approvato a livello di Ateneo c'è il rischio di dire vabbè facciamo una finta valutazione molto blanda una volta erano automatici ora facciamo finta che non lo siano questo è veramente poco motivante e sarebbe distruttivo secondo me da un certo punto di vista per l'università e sarebbe da evitare ma d'altra parte io credo che ci sia anche un altro rischio della così la logica dell'eccellenza che poi logica non è della retorica dell'eccellenza diciamo pensare di fare una una valutazione che sia comparativa delle persone cercando di estrarre il top 5% 10% di quelli super bravi eccellenti e premiare solo questi qui questo sarebbe un errore altrettanto grave perché non è così che funziona la scienza cioè se mille persone fanno ricerche e uno ottiene il risultato non è che gli altri 900 noi li dobbiamo massacrare cioè la scienza è un gioco di squadra quindi per ottenere risultati ci vuole una formazione di base adeguata ci vogliono strutture adeguate per l'università ci vuole la capacità di inserire i nostri dottorandi nell'attività di ricerca ci vuole gruppi di ricerca che siano trasversali e collaborativi alla fine di tutto questo processo che è un processo evidentemente di comunità è un gioco di squadra allora la persona valida può arrivare a ottenere il risultato ma quello è un coronamento di un lavoro di tutti messi assieme ognuno ha dato il proprio contributo pensare di premiare solo chi ha fatto l'ultimo passetto in questo lavoro collettivo è totalmente insensato e sarebbe veramente negativo sarebbe distruttivo perché sarebbe come in una squadra di calcio premiare solo pagare solo quello che fa i gol e gli altri non gli si dà niente e tutti si butterebbero all'attacco non ci sarebbero più difensori e mediani tantomeno che faticano molto e però difficilmente fanno gol e non si vincerebbe una partita quindi secondo me sarebbe veramente pericoloso che se questo passaggio di classe diventasse in questa lungo questa non dico logica l'ho detto apposta questa retorica dell'eccellenza e adesso arriviamo al difficile come in tutte le è abbastanza facile secondo me in tutte le cose trovare una struttura un'organizzazione che possa essere ragionevole che abbia una possibilità di funzionare ideare un'organizzazione non è poi così difficile il difficile è che non lo facciamo nel deserto non lo facciamo nel vuoto c'è già l'università quindi poi la difficoltà vera e ne sappiamo qualcosa avendo visto come ha funzionato la Gelmini è pensare e trovare un modo per fare la transizione dal vecchio sistema a quello a quello nuovo allora noi lo pensiamo in questo modo la transizione noi siamo convinti che l'unica maniera ragionevole per pensare la transizione sia pensarla come un riconoscimento di un dato di fatto cioè noi facciamo già tutti lo stesso lavoro c'è il ruolo unico nei fatti c'è già non c'è il ruolo unico giuridico e noi chiediamo che venga istituito il ruolo unico dal punto di vista giuridico se così è è una riorganizzazione delle nostre forze per far funzionare meglio l'università ovviamente non è pensabile che ci siano delle valutazioni e degli esami per riorganizzare perché non si può alle persone fargli un esame una valutazione per dirgli poi continui a fare quello che hai sempre fatto perché se si fanno degli esami e delle valutazioni allora stiamo parlando di una promozione ma noi non immaginiamo nessuna promozione ma una riorganizzazione quindi noi pensiamo che il passaggio debba essere automatico cioè noi trasferiamo organizziamo diamo un nome diverso alle cose che già ci sono abbiamo aggiunto eventualmente una possibile verifica didattica dei ricercatori che non hanno mai avuto titolarità di corsi questo perché tutti abbiamo fatto un concorso per entrare in università però il concorso da ricercatore non prevedeva prove didattiche naturalmente se la persona poi è stata incaricata dall'Ateneo di fare il professore di tenere corsi la verifica l'Ateneo ha verificato la competenza della persona mandandola in aula anche magari per decenni tra l'altro se non l'ha mai fatto sarebbe giusto forse verificarne la competenza didattica non scriviamo niente di scientifico qui non stiamo dicendo e qualcuno fa subito l'osservazione rispondo già alle osservazioni prima che me le possiate fare ma come? qui nel ruolo unico passa anche una persona che non pubblica da dieci anni che non ha una seria attività scientifica beh certo per forza quella persona comunque è un ordinario è un associato e se non pubblica non pubblica non è che se gli cambiamo nome adesso impossibilmente dovrebbe cominciare a pubblicare se noi mettessimo un vincolo anche minimale sulla competenza scientifica delle persone c'è stata la VQR non tanto tempo fa gli zeri ci sono stati gente che su sette anni non ha messo neanche un lavoro perché non ce l'aveva e erano su tutte le fasce gli zeri quindi che succede se noi ci mettiamo a fare una valutazione per quanto blanda sulla competenza scientifica non neanche la competenza sulle pubblicazioni scientifiche diciamo come uno potrebbe immaginare cosa succede che molti ricercatori associati ordinari molti spero di no ma alcuni non potrebbero accedere che diventerebbe una promozione tra l'altro perché se mi fate una verifica allora è una promozione non potrebbero accedere al ruolo unico e quindi cosa succederebbe che di fatto rimarebbero i ricercatori gli associati gli ordinari in più ci sarebbero anche i professori del ruolo unico ma se il nostro obiettivo era di semplificare la situazione e riconoscere un dato di fatto aggiungere un nuovo ruolo e averne quattro invece di tre sembra decisamente contraddittorio quindi se l'idea è la semplificazione e se l'idea è il ruolo unico non ci può essere una valutazione per il passaggio invece è banale la soluzione degli RTDB a mio parere sembra banale è già una figura in tenure track il trasferimento naturale sarebbe nella figura in tenure track che noi pensiamo del professore junior ecco vorrei dire magari qualche parola anche su quello che sta prima come ha già fatto il collegato Abusi quello lì è un problema molto grave come ha fatto vedere lui nella slide chi finisce il dottorato poi ha varie figure che lui ha messo in ordine perché è quello che capita però non sono in ordine sarebbero parallele diciamo uno finito il dottorato potrebbe avere un assegno di ricerca o forse può avere un postdoc o forse anche già subito un RTDA è possibile allora a quel punto lì sarebbero parallele poi purtroppo le fanno tutte in serie per cui diventa un precariato infinito ma avere tante figure essenzialmente equivalenti di ricercatore a tempo determinato quello fanno tutti sembra un po' irragionevole e l'idea anche questa tra l'altro ripresa proprio recentemente da uno dei documenti del CUN di avere un'unica figura di ricercatore a tempo determinato sembra molto ragionevole magari dandogli anche le massime garanzie perché le varie figure postdoc assegnista hanno tutti garanzie e organizzazioni diverse che certo non fa bene al sistema invece se potessero avere un'unica figura con le garanzie previste dalla carta europea dei ricercatori sarebbe sicuramente un grandissimo passo in avanti nella semplificazione nella possibilità di gestire al meglio gli atenei nella transizione c'è anche la questione economica allora noi immaginiamo siamo conseguenti il ruolo unico pensiamo un'unica scala stipendiale e l'idea sarebbe che siccome non è una promozione le persone non dovrebbero guadagnare di più come principio e quindi l'idea è di inserirli nella nuova progressione mantenendo lo stipendio che avevano prima e poi a valutazione ogni tre anni potranno avere un incremento di stipendio abbiamo fatto un'eccezione diciamo un'osservazione un warning sugli RTI perché gli RTI attualmente per legge non hanno l'obbligo di tenere dei corsi e anzi per legge è previsto che se lo fanno devono essere pagati non è specificato quanto quindi questo già crea un po' di problemi perché qualche università ritiene che zero sia comunque una cifra un pagamento un pagamento nullo speriamo non gli venca in mente anche un pagamento negativo chi lo sa io da matematico mi viene in mente i numeri sono tutti però devono essere pagati e quindi ovviamente se entrassero nel ruolo unico con il loro stipendio e hanno l'obbligo di fare la didattica non sarebbe più pagata perché un loro obbligo addirittura gli scenderebbe lo stipendio quello insomma sembra che non sia il caso sembrerebbe un po' irragionevole quindi pensavamo a riconoscere in qualche modo il maggior obbligo didattico dei ricercatori che attualmente non hanno l'impatto economico dirò ancora meno e ho quasi concluso perché perché ho scritto non siamo la ragioneria dello Stato non è il nostro lavoro non sarebbe serio fare un'analisi precisa di quanti livelli deve avere il ruolo unico quanto è l'importo economico dei vari passaggi qual è la curvatura che deve avere è una cosa molto delicata che però modula i costi chiaramente a seconda di quanti sono i livelli e quanto sono alti gli scatti si può far costare il ruolo unico non dico quanto si vuole però si può modularne i costi un'osservazione su questo però la farei perché c'è una cosa a nostro favore relativamente adesso vi spiego perché i professori che vanno in pensione adesso sono quasi tutti ordinari la maggior parte sono ordinari e sono entrati ovviamente 35-40 anni fa però l'università era un altro mondo rispetto adesso quindi addirittura 40 anni fa non c'erano neanche ricercatori quindi si entrava direttamente come professori dopo un periodo un po' indefinito e non per niente nell'80 hanno poi ideato la figura del ricercatore di fatto comunque il periodo di precariato era più breve di quello attuale e anche la velocità di progressione della carriera era molto più veloce per cui moltissime delle persone che vanno in pensione adesso hanno un'anzianità notevole nel loro ruolo e avendo goduto per tanti anni di scatti automatici hanno stipendi che ora sono irraggiungibili per i giovani nelle università anche se arriveranno a qualsiasi passeranno tutte le valutazioni anche quelle del ruolo unico che sono tante non solo due le facessero tutte comunque non arriverebbero mai neanche vicino agli stipendi quindi evidentemente ci sarà un impoverimento della categoria per questo dicevo un lato positivo relativamente però anche una diminuzione di costi chiaramente e allora si potrebbe utilizzare un po' questa diminuzione di costi per strutturare in modo adeguato l'impatto economico facendo in modo che si riesca a progettare un funzionamento a regime del ruolo unico che sia economicamente sostenibile come chiudo qua giù ok andiamo a chiudere non so se sono già andato un po' lungo ma ho finito volevo un pochino solo riepilogare siamo partiti dall'osservazione che il ruolo unico c'è già nei fatti noi facciamo tutti lo stesso lavoro manca però il ruolo unico dal punto di vista giuridico quindi è quello che chiediamo non poniamo rivendicazioni salariali la struttura che io ho immaginato era che ognuno mantenesse il proprio stipendio nella proposta c'era anche scritto che chi ha un stipendio molto basso comunque entra nel primo livello del ruolo unico e per cui qualcuno potrebbe avere un certo aumento di stipendio quello però è voluto e sarà un costo da valutare perché il nostro sistema universitario ha degli stipendi che sono bassi più bassi degli altri paesi europei però soprattutto sono bassi in entrata perché l'ordinario anziano non ha lo stesso stipendio che in Svizzera ovviamente però è confrontabile con altri paesi europei invece l'entrata che è dimezzata rispetto agli altri paesi europei quindi l'idea di far entrare già nel ruolo unico con uno stipendio ragionevole la persona che fa il docente universitario avrà un certo impatto economico ma noi crediamo che sia doveroso insomma soprattutto per evitare quelle persone che adesso abbiamo in università che magari sono già dieci anni che sono nell'università però prima hanno fatto il periodo di conferma poi ci vogliono due anni per averlo scatto quando sono arrivati per averlo bloccati gli scatti e adesso sono bloccati per sempre sono sempre allo stipendio base di 1800 euro al mese scarsi anche quindi almeno per queste persone qui un minimo di adeguamento stipendiale noi lo immaginavamo non certo per i ricercatori senior come me allora noi non poniamo rivendicazioni salariali e non chiediamo promozioni noi lo rivediamo il ruolo unico l'istituzione del ruolo unico come una riorganizzazione di quello che già esiste veramente cosa potrebbe dare di positivo secondo noi un po' l'ho già detto un po' l'ha detto anche il collega Tabusi lo volevo un po' riepilogare la creazione di una comunità accademica capace di condividere maggiormente le scelte e le responsabilità con tutto ciò che può seguire da questo il minore rischio di fare scelte errate e anche il minore rischio di fare scelte volutamente scorrette con una maggiore condivisione un utilizzo molto più flessibile delle risorse quindi sfruttiamo la gente in base a quello che sa fare non in base ad appartenenze di fascia oramai un po' anacronistiche se uno è bravo a fare una cosa io anche se ho dell'idea che noi dobbiamo fare tutto uno deve continuare a fare ricerca didattica attività gestionale però si può modulare su una o sull'altra un maggiore impegno in base alle competenze delle persone e non ad astratte appartenenze di fascia e poi si potrebbe questo riprendo l'argomento finale dell'intervento di Tabusi si potrebbe aumentare o perlomeno resistere un po' sulla compattezza e la capacità collaborativa delle nostre comunità perché questo è assolutamente vero non è ancora esploso del tutto ma credo che sia il rischio imminente ormai i concorsi arrivano col contagocce arriva un posto ci sono 5 6 10 persone di quell'SSD che lavorano insieme collaborano nel gruppo di ricerca uno può fare carriere questo qua è distruttivo chiaramente il sistema ha funzionato con questa struttura finché aveva la forma del cilindro che ha l'organizzazione universitaria ci sono tanti ricercatori come associati ordinari e il passaggio era abbastanza regolare non dico che c'erano posti per tutti però si riusciva ad avere prospettive di carriera per tutti più o meno velocemente ora con questa situazione dove uno su mille ce la fa è sicuramente molto a rischio di crollo la capacità collaborativa della comunità se si riesce a evitare questo con ruolo unico noi siamo convinti che si possa fare ma siamo aperti a qualsiasi altra proposta sarebbe veramente positivo e chiudo dicendo che questo che vi scriviamo sono cose bellissime per chi lavora in università avere un maggiore condivisione un maggior compattezza far funzionare meglio l'università gli obiettivi sono alti naturalmente noi siamo venuti qui perché vogliamo proporre questo ma ci rendiamo anche conto delle difficoltà che questo può avere soprattutto nel transitorio però noi crediamo che questa nostra proposta ha una diversità notevole rispetto alla precedente riforma la riforma Gelmini non solo nel metodo scusate non solo negli argomenti ma anche nel metodo cioè la nostra proposta nata dal basso che noi proponiamo all'attenzione della comunità accademica e delle istituzioni e della politica e la nostra idea è di venire qui certo per raccogliere consensi sulla nostra proposta ma anche di raccogliere osservazioni proposte critica noi crediamo che bisognerebbe riuscire insieme ad arrivare a una soluzione che sia condivisa e quindi applicabile in modo che quelle cose che crediamo possano essere i nostri obiettivi si riescano poi effettivamente a realizzare grazie a tutti per l'attenzione allora terminata la presentazione della proposta del ruolo unico della rete 29 aprile che come avete avuto modo di capire non pretende di essere già un articolato di legge ma non resta neppure però a livello dei soli principi la cosa più complicata più complessa è sempre riuscire a tenere insieme i principi con le ricadute poi che questi principi hanno nell'attuazione è un po' il tentativo che Danilo ci ha mostrato che il lavoro collettivo che ci ha portato su questa proposta ha tentato di fare passo ora la proposta al collega Calogero Cammalleri del Compass il coordinamento nazionale dei professori associati docente di diritto del lavoro presso l'Università degli Studi di Palermo grazie Chiara buongiorno a tutti innanzitutto ringrazio il magnifico rettore per l'ospitalità per avere condiviso la scelta i colleghi della rete 29 aprile per averla promossa ai colleghi del coordinamento dei cercatori dell'Università di Torino io non userò slide quindi se volete potete anche modificare l'illuminazione della sala ringrazio innanzitutto Massimiliano Tabusi per il quadro chiaro e lucido della situazione che attualmente governa la struttura dello stato giuridico dell'Università e delle relazioni che questa struttura determina sul funzionamento di essa dirò subito che il Compass condivide dalla prima parola fino all'ultima l'analisi della rete del resto più volte ci siamo confrontati su questo tema e anche rispetto alla dettagliatissima relazione di Danilo il Compass ha posizioni quasi del tutto sovrapponibili per questa ragione ovviamente nonostante si tratti di una presentazione di una proposta di un'altra organizzazione io non ripeterò le nostre proposte che possono essere sovrapposte a quelle della rete laddove io non faccia riferimento a aspetti già trattati da Danilo significa che il Compass è esattamente su quella linea vengo dunque a illustrare il punto su cui in minima parte per la verità non significativamente la nostra proposta diverge da quella della rete vorrei prima però richiamare la vostra attenzione sul titolo come del resto è già stato fatto ruolo unico della docenza universitaria una rivoluzione necessaria metto il punto fermo né interrogativo né esclamativo ruolo è una parola che ormai è polisenza perché infatti abbiamo avuto la necessità di aggiungere della docenza perché in effetti il ruolo cos'era da un punto di vista tecnico scusate se mi faccio prendere la mano dalla deformazione professionale il ruolo è un elenco il professore di ruolo il posto di ruolo il ruolo cioè tutti coloro che fanno parte di una comunità proprio perché tutti coloro che fanno parte di una comunità sono nel medesimo elenco il ruolo poi assume il significato comune cioè le persone svolgono una funzione quindi il ruolo fare parte dell'elenco è colui che fa parte dell'elenco è la stessa cosa cosa accade invece adesso accade che il ruolo del virgolette docente universitario è un ruolo nel senso è una funzione è una funzione che ha una assoluta medesimezza nelle sue componenti essenziali anzi direi consustanziali la ricerca e l'insegnamento di quella ricerca e tuttavia quel ruolo quella funzione non identifica l'appartenenza a un medesimo elenco appartenenza a un elenco non medesimo che determina poi nell'organizzazione della vita universitaria un meccanismo di apartheid non c'è una parola diciamo più soffice è quella poiché si creano delle porte stagne tra un elenco e un altro pur non essendo di alcuna ragione funzionale perché quelle porte non siano abbattute è chiaro che non ho scoperto diciamo l'acqua calda ne ho la soluzione dell'uovo di colombo però come compass noi abbiamo pensato di muoverci su due filoni paralleli uno quello del disegno del ruolo unico nel quale vi è una compensazione delle esigenze della comunità scientifica nazionale con le esigenze delle comunità di ricerca e didattica locali per questa ragione nel nostro sistema noi abbiamo ipotizzato un ingresso nel ruolo unico in cui la valutazione della valentia scientifica del soggetto sia affidata all'intera comunità nazionale guardate quando diciamo l'intera comunità nazionale ci ho posto la esistenza già del ruolo unico e cioè una partecipazione tra pari senza distinzione delle attuali fasce cioè tutta la comunità giudica tutti non entro nel dettaglio vi risparmio i tecnicismi li abbiamo scritti addirittura noi in un articolato li potete leggere nel dossier questo poi fa sì che il soggetto vincitore secondo il meccanismo che noi abbiamo delineato possa di concerto con un'università che cerca una figura trovare una collocazione con dei meccanismi successivi che comunque evitano che il soggetto vincitore di un concorso nazionale rimanga senza la sede perché nessuna università lo chiama la parte che invece è quella più spinosa e sulla quale noi riteniamo si possa raggiungere presto diciamo un risultato è quella della transizione poiché nulla nasce dal nulla il problema di passare da dove a dove è oggettivamente quello più spinoso anche perché è quello che si porta dietro inevitabilmente il problema del reperimento della provvista finanziaria per ogni modificazione che si voglia fare per questa ragione la transizione al ruolo unico previsto dalla nostra proposta è un tantino più graduale diciamo così di quella della rete noi riteniamo che il punto fondamentale sia la rimozione dell'apartheid la rimozione dell'apartheid si concreta in due semplicissime abolizioni o in due semplicissime estensioni la questione sono i punti di vista la prima è quella della costruzione di un ruolo in cui l'elettrato passivo sia comune a tutti gli appartenenti a quell'unico e solo ruolo da ciò ne consegue che l'accesso e la valutazione all'interno di quel ruolo che anche nella nostra proposta è una valutazione continua il nostro ruolo si chiama un ruolo del docente unico a valutazione continua a valutazione periodica quindi quello è fondamentale sia affidata come è attualmente affidata la valutazione della ricerca alla comunità dei pari cioè a coloro che svolgono quelle funzioni non a coloro che abbiano un determinato numero di galloni conquistati meritariamente sul campo magari decenni prima e che non siano poi stati coltivati del resto il sistema verso lì è andato con tutte le critiche che sono state fatte e che si possono fare al sistema delle abilitazioni al sistema della VQR è un fatto che la valutazione continua ha eliminato qualunque possibilità di attribuire al possesso di un gallone una misura di qualità scientifica acquisita una volta per sempre poiché la valutazione è continua noi possiamo avere soggetti che pur avendo acquisito una piena maturità scientifica per utilizzare la nomenclatura della legge passata non l'abbiano poi più coltivata mentre soggetti che pur non avendola formalmente acquisita l'hanno coltivata raggiunta e magari superata per questa ragione noi diciamo istituiamo il ruolo unico mettiamo a esaurimento tutti i ruoli esistenti consentiamo il passaggio a domanda da un ruolo all'altro cioè dai tre ruoli al ruolo unico in cui è assolutamente affermata la unicità della funzione e delle prerogative e però lasciamo nel transitorio immutata il trattamento economico attraverso la trasformazione di quelle che sono le scale economiche di tre ruoli in tre scale stipendiali di un unico ruolo scala di ingresso scala intermedia scala di uscita sono dei nomi se ne possono trovare quanti se ne vogliono abc un due tre fate voi la scala ovviamente di ingresso corrisponde al trattamento economico del ricercatore a tempo indeterminato confermato la scala intermedia a quella dell'associato e la scala di uscita a quella del professore ordinario in questo modo viene meno quello che è l'ostacolo maggiore alla transizione o meglio quello che è il pretesto maggiore cioè quello della mancanza della copertura finanziaria perché in realtà almeno a mio avviso il problema vero diciamocelo francamente è quello del riequilibrio dei poteri c'è chi quando un piccolo gruppo gestisce tutto il potere seppure predichi la democrazia come strumento di efficiente organizzazione del sistema ha sempre una forte resistenza a cedere anche in buona fede per carità il proprio potere all'intera comunità ciò ci porta a dire questo noi manteniamo le attuali tre scale e prevediamo attraverso il nostro meccanismo di valutazione continua e la separazione delle risorse necessarie al reclutamento da quelle necessarie alla progressione di carriera chiamandole non punti organico teorici ma copertura finanziaria differenziale poiché noi non facciamo il concorso finto perché il concorso è concorso da un ruolo all'altro diciamo dobbiamo fare una progressione di carriera occorre per questa specifica progressione di carriera questa copertura finanziaria che potrebbe anche essere nulla guardate bene in funzione delle diverse anzianità a questo punto avendo riparendo dalla finanza attuale le risorse necessarie alla progressione di carriera il passaggio graduale e non per salti da una scala a un'altra avviene con gli stessi meccanismi valutativi triennali che già la legge prevede per l'attribuzione dei vecchi scatti biennali e così nel giro sostanzialmente di nove anni senza necessità di ulteriori risorse dalla triplice scala si passerebbe alla scala unica prevediamo nel nostro modello anche un particolare meccanismo di regolazione della mobilità dei professori questo meccanismo è collegato alla struttura retributiva che nel nostro diciamo progetto vede due momenti fondamentali quello del trattamento economico di base uguale per tutti i professori e dato che parlo del ruolo unico intendo tutti determinato a livello nazionale secondo sostanzialmente gli attuali meccanismi è la possibilità di un trattamento accessorio determinato a livello locale e finanziato con fondi diversi dal fondo di finanziamento ordinario sia di tipo economico quindi direttamente un'incentivazione economica per lo svolgimento di specifici ed ulteriori compiti sia a livello normativo prevedendo per esempio che gli atenei possano derogare in tutto in parte agli attuali limiti previsti dalla legge per lo svolgimento di attività professionali da parte di professori a tempo pieno determinati esclusivamente a livello locale per quanto riguarda la mobilità noi prevediamo che il professore che si sposti che risponda a un bando di mobilità o una chiamata possa andare portandosi la provvista del trattamento economico di base ovviamente l'obiezione sarebbe che le università più piccole si spopolerebbero rispetto alle università più grandi che hanno possibilità di maggiore reclutamento ma il sistema prevede un riequilibrio triannale del trasferimento delle risorse in più o in meno in funzione dei trasferimenti adeguati per cui a me non piace usare la parola competizione ma diciamo così la scelta tra il passare da un ateneo o un altro si risolve tutta sulla capacità del singolo ateneo di sapere offrire al professore strutture risorse o di saperlo trattenere offrendogli strutture e risorse per la propria ricerca un meccanismo perequativo sostanzialmente nell'arco di tre anni che è il periodo minimo di una programmazione efficiente sia di reclutamento del personale sia di progressione dello stesso sia di piani strategici sia di attività di ricerca consente di non essere eccessivamente diciamo aggressivi sul mercato del trasferimento perché comunque ottenere tanti professori di trasferimento comporterà inevitabilmente il dovere rendere le risorse che si sono transitoriamente presi da altri io diciamo avrei anche un off topic se mi consentite nel senso che è vero che parliamo di ruolo unico però alla fine parliamo di ruolo unico all'interno dell'università quindi ne abbiamo parlato anche noi come strumento di riorganizzazione strumento di funzionamento per cui la presenza in questa sala di del legislatore e del governo mi sollecita a lanciare sostanzialmente un appello forse 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 dico forse perché voglio illudermi non si è capito perché temo invece che si sia capito che l'università è allo stremo delle sue forze e lo è per due ragioni fondamentali uno perché ha perduto in dieci anni diecimila dei suoi docenti diecimila mille all'anno cinquecento per ogni semestre accademico una ventina per ogni ateneo statale cioè è un numero impressionante e perché ha perduto in termini di valori reali al netto dell'inflazione la metà del suo finanziamento non i numeri i numeri effettivi e questo ha paralizzato il funzionamento di gran parte dell'università abbiamo speso tantissimi soldi nell'istituzione nel finanziamento dell'ANVUR su cui diciamo tante critiche sono state fatte e altre se ne possono fare e altre forse è giusto fare probabilmente va anche detto che tolte le colpe che effettivamente all'ANVUR molte colpe l'ANVUR ce l'ha perché gli sono stati dati i compiti che non gli si dovevano dare un'agenzia di valutazione non può essa stessa stabilire cosa e perché valutare e cosa fare dei dati che essa stessa ha valutato l'agenzia se è indipendente deve dare la fotografia senza giudizi di merito nel senso stretto del termine deve dire questa è la situazione sarà poi la politica a dover stabilire secondo una linea politica cosa fare di quei dati e allora chiediamo un fortissimo segno di discontinuità rispetto alla gestione della politica universitaria del passato decennio non voglio ricordare cosa ha prodotto la selvaggia liberalizzazione delle università telematiche regalateci dal ministro Moratti ne occorre dire i disastri prodotti dalla riforma dell'innominabile ministro purtroppo diciamo capisco che sembrerebbe la battuta tirata ma invece diciamo non credo che ci sia altro modo perché anche poi chi è venuto dopo si è trovato un canovaccio su cui diciamo non ha provato neanche minimamente ad aggiustare le storture ma spesso le ha aggravate ne è testimonianza l'uso cervellotico degli indicatori bibliometrici o parabibliometrici nell'abilitazione scientifica nazionale è l'uso assolutamente assurdo permettetemi la crudezza della parola della mediana come criterio selettivo delle cohorti che possono partecipare a un'abilitazione l'assurdità del concetto che chi sta alla destra della mediana è degno e chi sta alla sinistra per principio puramente quantitativo non è degno neanche di competere a tutti questi fautori della competizione in un sistema aperto e plurale collaborativo è una sciocchezza chiudo chiedendo appunto un segno di discontinuità nel senso del ruolo unico e nel senso della gestione delle politiche universitarie grazie grazie a calogero cammalleri anche perché è stato perfettamente nei tempi allora nonostante le differenze fra le nostre proposte che riguardano alcuni passaggi mi sono segnata ovviamente conoscendo la loro proposta il transitorio il ruolo della valutazione a livello centrale oppure a livello delle strutture locali come nella nostra proposta il fatto che tutti noi oggi comunque siamo qui a partecipare a questo convegno dimostra che è comunque necessaria e improrogabile una riflessione su una riforma dello stato giuridico della docenza il convegno discute questa necessità nella prospettiva del ruolo unico e io chiedo quindi pertanto ai prossimi relatori sia tecnici diciamo sia politici di affrontare nei loro interventi anche questa direzione possibile passo a questo punto la parola al professor Alberto no scusate al nostro rettore al professor Marco Gilli per il suo intervento cedo anche il posto così no ah tu vai lì giusto sì sì grazie anch'io non ho preparato slide cercherò di essere abbastanza sintetico va da sé che faccio un intervento che riflette la mia posizione personale posizione che si è sviluppata che è maturata ovviamente anche per l'esperienza di governo che ho fatto all'interno dell'università ma è un intervento che non impegna ovviamente né il Politecnico di Torino né i suoi organi di governo questo vorrei che fosse chiaro anche perché appunto molti colleghi degli organi di governo sono qua presenti io vorrei partire da un'analisi un pochettino più ampia poi ci arrivo alle proposte sulla docenza arriverò anche al ruolo unico ma perché la presenza di alcuni parlamentari peraltro con notevole responsabilità nell'ambito della commissione cultura e quindi che avranno un ruolo importante in questo anno che è stato definito dal presidente del consiglio un anno costituente per l'università italiana ecco la presenza di alcuni parlamentari mi induce a fare qualche considerazione generale che poi sul ruolo unico o comunque sulla revisione della docenza universitaria credo possa avere un peso significativo allora la prima considerazione che voglio fare è una considerazione che si riallaccia al discorso sul capitale umano noi abbiamo un problema nel paese che prescinde dal ruolo unico che prescinde dall'organizzazione della docenza e sono i bassi investimenti ricerca e sviluppo che però producono una conseguenza immediata perché tante volte si dice vabbè gli investimenti sono pochi però si possono utilizzare meglio la conseguenza immediata è che noi abbiamo pochi ricercatori l'Italia in Europa è il paese o è tra i paesi con meno ricercatori i dati OXE ci dicono che noi ne abbiamo 4 ogni mille abitanti la Germania la Francia la stessa Spagna ne hanno almeno il doppio gli Stati Uniti ne hanno 10 non parliamo dei paesi asiatici emergenti come la Corea eccetera che arrivano addirittura ad averne 16 ogni mille abitanti ora con pochi ricercatori noi siamo meno capaci di fare innovazione perché per fare innovazione bisogna prima fare ricerca e questo è una delle ragioni per cui il nostro paese ha meno capacità di innovazione soprattutto là dove sono richieste tecnologie innovative e tecnologie emergenti guardate che il fatto che la nostra bassa capacità di competere a livello europeo derivi dal basso numero di ricercatori ma è consolidata noi abbiamo tutti i dati che lo confermano basta vedere gli esiti dei grant dello european research council anche quegli esiti lì ci dicono che l'Italia performa meno degli altri paesi ma non perché i singoli ricercatori siano meno bravi ma perché sono di meno i singoli ricercatori oltretutto c'è anche poca capacità dei nostri ricercatori di andare a fare massa critica abbiamo bassi investimenti in formazione terziaria questo è un altro problema fondamentale noi abbiamo la percentuale di popolazione adulta con formazione terziaria che ha gli ultimi livelli tra i paesi oxe ed è un altro dato di forte criticità guardate qua ne approfitto è fuori tema però ne approfitto per fare una battuta sulle università di serie A e di serie B che ha fatto il presidente del consiglio in realtà questa battuta è stata probabilmente stimolata da una parte della mia relazione dove però si diceva un'altra cosa in quella parte della relazione si diceva che noi dobbiamo assolutamente potenziare la formazione terziaria professionalizzante cioè gli istituti tecnici superiori l'equivalente delle facoschule tedesche o dei community college americani perché se non facciamo quello non ce la faremo mai a raggiungere un livello di formazione terziaria equivalente a quella degli altri paesi europei il presidente Obama che vuole aumentare la formazione terziaria negli Stati Uniti non ha potenziato la University of California non ha potenziato le California State University ha potenziato i community college quindi non si tratta di università di serie A o di serie B si tratta di università istituti di formazione post-secondaria che hanno una missione diversa che quindi non vanno a competere con quegli altri solo per chiarire il quadro all'interno dei quali ho sicuramente stimolato questa riflessione e poi la terza criticità che viene fuori che però è sempre una criticità di capitale umano è quella sul diritto allo studio attenzione perché noi non abbiamo più ricercatori e rischiamo di avere sempre di meno abbiamo una bassa capacità di formare soprattutto a livello elevato i nostri studenti e poi oltretutto non abbiamo più nemmeno le capacità di attrarli e di trattenerli guardate che gli studenti che cominciano ad andare a studiare all'estero non dopo il PhD come era un tempo non durante il PhD come è stato negli ultimi anni ma addirittura a livello di bachelor o di master stanno aumentando le condizioni economiche che noi offriamo nelle nostre università non sono più assolutamente competitive anche la borsa di studio che viene data dai vari enti per il diritto allo studio non è assolutamente più sufficiente per potersi mantenere durante gli studi in particolare in un periodo in cui insomma c'è una certa crisi economica il risultato e lo so che in questo lo sanno i miei amici io ho un approccio che forse appare troppo meritocratico ma il risultato pratico è che soprattutto i migliori vanno via perché? perché i migliori se vanno all'Imperial College piuttosto che all'ETH piuttosto che all'EPFL hanno un grant e un supporto che è molto maggiore rispetto al supporto che noi siamo in grado di offrire qua questo è il quadro all'interno del quale ci muoviamo e in questo mi sento di dire che se non si interviene in modo incisivo è chiaro che questo sistema dell'università il problema non sarà la serie A e la serie B il problema sarà la serie C per tutti voglio dire se non addirittura qualche serie inferiore da questo punto di vista bisogna assolutamente intervenire veniamo però all'impatto che tutto questo ha avuto sul personale docente dell'università perché il tema oggi è questo gli altri temi sono temi più generali ma che ripeto hanno anche loro un collegamento noi abbiamo avuto il combinato disposto di due elementi in questi ultimi anni il fondo di finanziamento ordinario che si è ridotto progressivamente guardate che tutta l'università italiana tutta l'università italiana ha un fondo di finanziamento ordinario che è intorno ai 6 miliardi siamo sotto decisamente decisamente al di sotto dell'1% del PIL adesso il PIL è un po' diminuito ma insomma restiamo intorno ai 1500 miliardi e quindi siamo sotto siamo circa allo 0,5% del PIL ecco questo dato è inevitabilmente un dato che va corretto io capisco le difficoltà ma la regione Piemonte per la sanità destina 8 miliardi tutto il sistema dell'università italiana insieme è finanziato meno di quanto giustamente intendiamoci bene sia finanziata la sanità nella sola regione Piemonte è chiaro che qui io lo vedo da ingegnere c'è qualcosa che non torna come ordini di grandezza e allora bisogna intervenire poi c'è stato anche il blocco del turnover che ha avuto l'effetto non soltanto ovviamente di bloccare le carriere ma ha avuto anche l'effetto di impedire alle università di spendere noi lo dico lo sanno i colleghi consiglieri di amministrazione come Politecnico di Torino forse perché siamo più fortunati di altri siamo più piccoli abbiamo tutta una serie di situazioni al contorno vantaggiose potremmo anche investire un po' di più sui ricercatori potremmo anche investire un po' di più sui passaggi d'associato ordinario e solo che questo ci è impedito ci è impedito da una norma che anziché andare a guardare il bilancio come bisognerebbe fare noi abbiamo i revisori che arrivano dal ministero dal MEF che arrivano dal MIU quindi insomma siamo controllati anziché andare a guardare il bilancio anziché andare a guardare una programmazione di bilancio che insomma sul personale è facile da fare va a mettere delle regole di livello nazionale sul blocco del turnover peraltro poi lo sapete bene declinate in un modo che non è nemmeno logico perché lo sapete tutti che le università che hanno tasse più elevate poi figurano per essere quelle che hanno più turnover secondo una logica che veramente è inspiegabile non dal punto di vista politico ma proprio dal punto di vista logico allora il risultato di tutto questo è che oltre ad avere pochi ricercatori l'ho già detto prima siccome non c'è turnover i ricercatori invecchiano io quando parlo di ricercatori parlo di tutti parlo dei ricercatori a tempo indeterminato dei professori associati dei professori ordinari che sono tutti i ricercatori oltretutto questi invecchiano e non c'è ricambio generazionale noi è da molti anni che non stiamo più immettendo dei giovani all'interno dell'università allora capite che questi sono dati preoccupanti perché sono strutturali non si mettono a posto nel giro di qualche anno non basta una legge per mettere a posto queste cose sono dati strutturali che ci porteremo dietro e sono non complessi non in toto ma in parte sono una delle ragioni per cui poi il nostro paese non riesce a riprendersi ci sono studi l'ho già detto tante volte che questo lo mostrano in modo inequivocabile insomma che se non si investe sui giovani in particolare sulla ricerca e questo insomma ha delle conseguenze sulla competitività del paese facciamo andiamo un po' avanti perché abbiamo parlato di considerazioni generali abbiamo parlato dell'effetto di questo pratico sul personale dell'università andiamo a vedere la legge 240 la legge Gelmini e andiamo a vedere le criticità che ci sono in questa legge e come si possono correggere allora io mi ricordo che quando si discuteva sulla legge Gelmini insieme anche agli amici e ai colleghi della rete 29 aprile io che allora facevo il provettore dicevo solitamente questo guardate il problema della legge Gelmini non è tanto quella che va contrastata per ragioni più o meno ideologiche la legge Gelmini semplicemente non funzionerà non funzionerà dal punto di vista pratico era ovvio che non funzionasse dal punto di vista pratico guardate poi parliamo di reclutamento ma io vi dico che cosa secondo me è successo invece per la parte di modelli di governo la parte di modelli di governo la legge Gelmini è sembrata esattamente l'equivalente del porcellum nelle leggi elettorali voi sapete cosa è successo nel porcellum sapete meglio di me si parte da un modello anglosassone che può piacere non piacere ma funziona da centinaia di anni si corregge 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 e si arriva alle liste bloccate alla legge elettorale che poi è stata dichiarata incostituzionale qua è più o meno capitata la stessa cosa si parte da un modello di università che era il modello anglosassone che non era nella storia dell'università italiana non era nella tradizione italiana e quindi ovviamente non poteva essere calato nella realtà italiana lo si corregge lo si corregge lo si corregge e ne viene fuori un gran pasticcio oggi noi facciamo fatica non fosse per la grande disponibilità dei nostri organi di governo noi faremo fatica a governare l'università sapete qual è una delle chicche della legge gelmini è che nel modello anglosassone c'è un consiglio d'amministrazione certo magari non eletto che però controlla il rettore noi abbiamo modificato modificato le cose e alla fine il consiglio d'amministrazione che dovrebbe controllare il rettore lo presiede il rettore capito sono cose assolutamente illogiche allora il problema della legge gelmini è che in moltissime parti in moltissime parti ha portato avanti delle riforme che sono essenzialmente illogiche dopodiché ci sarà si potrà anche contrastare e non condividere ma le cose illogiche appunto sono illogiche bisogna e bisogna convenirne cosa è capitato invece sul reclutamento è capitato una cosa un errore pazzesco che se lo facesse uno studente lo bocci immediatamente il personale docente ovviamente è modellabile come io mi sono occupato per un po' di tempo di sistemi dinamici è modellabile come un sistema dinamico anche abbastanza non lineare in cui c'è un'evoluzione nemmeno tanto difficile da prevedere perché si tratta tutto sommato voglio dire di un sistema discreto ebbene non ha tenuto conto che c'erano condizioni iniziali cioè 20.000 ricercatori 15.000 associati 15.000 ordinari e non ha tenuto conto che c'erano condizioni al contorno ora se c'è qualche matematico qua sa che se uno qualunque modello evolutivo faccia che sia di qualunque tipo e se non tiene conto delle condizioni iniziali e di quelle al contorno soprattutto quando il modello è fortemente non lineare ovviamente sbaglia questo è l'errore fondamentale che è stato fatto nella legge Gelmini e allora bisogna correggere questo errore perché come giustamente ha detto Danilo i problemi delle proposte che loro fanno non sono tanto a regime è il transitorio che va gestito ma i transitori ci sono e più delle volte sono transitori anche molto molto lunghi e questo sarà un transitorio molto molto lungo e non si può pensare che non esista allora vista le criticità della legge Gelmini ripeto strutturali io sto parlando di criticità strutturali poi insomma gli altri aspetti vediamo invece se almeno a regime funziona la legge Gelmini cioè quando il transitorio si sarà esaurito e ovviamente siamo abbastanza intelligenti tutti quanti da capire che prima che il transitorio si sia esaurito ci sarà una nuova legge quindi insomma non arriveremo mai al regime della legge Gelmini ma immaginiamo di arrivarci ecco e immaginiamo di arrivarsi senza andare a fare delle osservazioni sul fatto che ci piaccia o non ci piaccia allora la legge Gelmini l'aveva fatta vedere il collega Tabusa cosa prevede beh prevede che ci sia un lungo periodo prima di accedere al ruolo della docenza un periodo che non c'è da nessuna parte al mondo da nessuna parte al mondo il dottorato un periodo di postdoc che è fatto da un periodo che può variare ma insomma può essere fino a 4 anni adesso non ho capito se può diventare addirittura di 6 anni il che voglio dire e poi e poi qui c'è la chicca due figure per l'ingresso nel ruolo dei ricercatori i ricercatori di tipo A e i ricercatori di tipo B anche questo io sfido chiunque andare a vedere i modelli che ci sono in tutte le università europee e in buona parte anche delle università americane non si trova da nessuna parte insomma non sarebbe sufficiente provare a copiare posto che si voglia fare quel modello lì quello che capita in tutto il mondo e cioè il dottorato 1-2 anni di postdoc e poi una posizione in tenure track chiamiamolo da ricercatore a tempo determinato chiamiamolo da assistant professor chiamiamolo come vogliamo di un periodo sufficientemente lungo 5-6 anni e basta perché è questo perché lasciamo stare che poi il transitorio è ancora più complicato ma altrimenti i giovani ce li perdiamo tutti ma voi ve lo immaginate un giovane dottorando brillante che ha finisce il dottorato a 27-28 anni e gli si dice guarda adesso devi farti un po' di postdoc e poi e poi vedremo poi forse c'è una posizione da ricercatore di tipo A che però non porta da nessuna parte e magari ti arriva una posizione da ricercatore di tipo B che poi ti porta alla tenure track ora tutta questa complessità e questa incertezza fa sì di nuovo che i migliori giovani vanno via e infatti stanno andando via cioè voglio dire è quello che sta esattamente capitando quindi il problema della legge del mini è che non funziona a regime non è che non funziona solo nel transitorio ma anche a regime non funziona perché ha questo periodo diciamo prima di arrivare alla tenure che è estremamente confuso e molto poco lineare e che quindi insomma alla fine dissuade le persone dal fare la carriera all'interno dell'università però questo è nulla rispetto a quello che capita nel transitorio e ripeto non stiamo parlando di un transitorio di due anni tre anni ma parliamo di transitori in cui io penso insomma io sono abbastanza giovane ma credo che insomma andrò prima in pensione prima della conclusione di questo transitorio quindi stiamo parlando di transitori lunghi e transitori lunghi che si innestano in una situazione dell'università che è quella che ho detto prima quindi una situazione con forti criticità strutturali allora qui abbiamo una situazione estremamente confusa tra gli assegni di ricerca pre-gelmini gli assegni di ricerca post-gelmini che nessuno sa se siano cumulabili nel senso che c'è qualche giudice amministrativo che dice in un modo qualcun altro che dice in un altro e il ministero che dice in un altro modo ancora abbiamo le posizioni da ricercatori di tipo A che stanno partendo e poi abbiamo le posizioni da ricercatori di tipo B che sono ovviamente un terno all'otto per chi le vince perché consentono nel momento in cui si accede lì in tre anni sostanzialmente di diventare professori associati facendo anche un doppio jump rispetto a molti ricercatori a tempo indeterminato che invece il jump non lo possono fare se non ci sono le risorse allora abbiamo una situazione che oggi veramente è confusa in modo tale che se voi andate a vedere i bandi per ricercatori di tipo A i bandi per ricercatori di tipo B trovate che ciascuna università italiana ha messo dei requisiti diversi questi requisiti sono spesso in contraddizione tra di loro insomma la sostanza è che stiamo facendo un reclutamento in modo molto molto confuso poi c'è l'altro aspetto che oltre al transitorio del ricercatore a tempo indeterminato abbiamo il transitorio di tutti gli assegnisti tra virgolette anziani cioè gli assegnisti che hanno avuto assegni di ricerca prima e assegni di ricerca dopo Gelmini gente brava gente che normalmente ha dei titoli e non abbiamo più nessun percorso per i giovani cioè per quelli perché? perché i giovani hanno meno titoli di questi e quindi ovviamente non vincono giustamente i concorsi non abbiamo più nessun percorso per i giovani per cui i giovani che hanno appena avuto il dottorato si vedono una coda immensa davanti nell'università italiana e quindi alla fine vanno via dopodiché c'è il problema quindi abbiamo ripeto il problema di una confusione incredibile sul reclutamento dovuta a una norma poco chiara e anche abbiamo il problema dei giovani e dopodiché abbiamo il problema del ricercatore a tempo indeterminato perché qualcuno mi deve dire per chi sta governando un ateneo e quindi ha l'obiettivo di far sì che le persone lavorino con la maggiore motivazione possibile come facciamo noi con un numero di ricercatori a tempo indeterminato che resterà sicuramente superiore a 10.000 ma rischia di essere intorno a 20.000 come facciamo noi a governare un ateneo dove i due quinti del corpo docente è messo ad esaurimento quindi in una posizione che non si capisce bene cosa sia è messo ad esaurimento con prospettive di crescita molto basse perché fatto il piano straordinario le posizioni saranno poche e per giunta si vede i ricercatori di tipo B che fanno il doppio salto e diventano immediatamente associati ma se uno fosse un manager d'azienda scusate uso un paragone improprio che so che qui non è condiviso se uno fosse un manager d'azienda vedesse una roba del genere dicevo che questa roba è completamente folle voglio dire non ha nessun senso una gestione del personale di questo tipo allora queste criticità che sono conseguenze insomma via via a livelli diversi delle cose che dicevo non possono non essere affrontate se no il rischio è che noi ci troviamo un sistema universitario che diventa profondamente demotivato in quella che è la sua risorsa più importante cioè il capitale umano e adesso arriviamo via via a cercare di capire se la proposta del ruolo unico che emerge o le sue varianti hanno un insomma un loro senso se possono essere in qualche modo considerate almeno per quanto mi riguarda come una possibile soluzione a questi problemi però la prima cosa che vorrei fosse chiara è che i problemi che loro hanno evidenziato non solo ci sono ma forse sono un po' più insomma preoccupanti addirittura di come sono stati evidenziati dai precedenti interventi allora innanzitutto io dico sul ruolo unico non dobbiamo spaventarci un po' più di tanti io so che la comunità accademica tendenzialmente si spaventa perché immagina che il ruolo unico debba o possa essere una carriera automatica dove si entra e poi si va avanti in modo automatico o ci sono carriere automatiche in Italia non è che sarebbe l'unica però certamente in un ambiente come quello dell'università dove necessariamente si è costantemente valutati la carriera automatica non fa per noi ma il ruolo unico non è necessariamente associabile alla carriera automatica e soprattutto bisogna e su questo gli amici lo sanno che se parliamo di ruolo unico dobbiamo innanzitutto premettere che il ruolo unico deve essere declinato insieme alla meritocrazia altrimenti se non è così voglio dire il risultato sarà che non faremmo non faremmo non faremo una cosa buona per l'università ma il ruolo unico esiste già in moltissime parti magari non come l'hanno descritto loro proprio però c'è già allora io ho un po' di frequentazione con gli atenei americani in particolare con le università pubbliche americane con la university of california beh lì insomma esiste un qualche cosa che è molto simile al ruolo unico nel senso che si entra normalmente come assistant professor che sarebbe l'equivalente del ricercatore però si fa già esattamente ciò che fa l'associate è esattamente ciò che fa il full professor nel senso che non c'è distinzione di ruoli tra l'assistente che poi si chiama assistant ma in realtà non è un assistente è il professor hanno i loro gruppi di ricerca hanno la loro autonomia di ricerca hanno la loro didattica esattamente come gli altri dopo un certo periodo c'è una valutazione che conduce alla tenure valutazione che di nuovo è flessibile c'è un periodo normale di sei anni però se uno è molto bravo può anche chiedere di essere valutato dopo tre anni se uno invece ha avuto dei problemi delle difficoltà può chiedere che la valutazione venga fatta un paio d'anni dopo ecco un po' di flessibilità dovremmo essere capaci anche noi di introdurla si diventa associate professor professore associati ma il termine è ambiguo perché ripeto si fa esattamente ciò che fanno gli ordinari e poi c'è una promozione da associate a full professor che normalmente non è complicata nel senso che avviene attraverso nuovamente una valutazione qual è la differenza rispetto a quel modello là e questo modello qua beh certo ci sono le tre valutazioni le tre stelline quindi da assistant ad associate a full professor e quindi non è un continuo in realtà neanche l'oro è un continuo le valutazioni ovviamente sono sempre discrete però viene valutato il singolo non si fanno valutazioni comparative come si fanno da noi dove apparentemente partecipano tutti e si mettono in competizione i singoli ricercatori tra di loro non i nostri con quelli degli altri atenei che sarebbe una bella cosa ma i nostri ricercatori del nostro ateneo i nostri professori associati del nostro ateneo no si fa una valutazione che è una valutazione fatta sul singolo oh queste valutazioni possono essere anche molto severe ed è lì che dico che il ruolo unico può essere declinato con la meritocrazia mi raccontava il dean di UC Berkeley che per il primo passaggio cioè l'attenio da assistente ad associato loro chiedono innanzitutto nominano un commit interno non una commissione esterna anche lì siamo solo noi ma questa cosa è richiesta dal ministero che per andare a scegliere i professori che devono venire nel nostro ateneo andiamo a nominare una commissione fatta da esterni come se Berkeley per nominare un suo professore andasse a prendere da Stanford i commissari ovviamente non lo fa però noi facciamo esattamente così la commissione interna si avvale di referi internazionali questo sì perché non tutti possono essere esperti in quello specifico settore di ricerca del candidato a Berkeley chiedono 13 referi internazionali per le tenue se il parere di questi referi con eccezioni minime non è positivo la persona non prende la tenue quindi voglio dire questa è una sorta di ruolo unico non come loro ma comunque di valutazione della carriera del singolo che può essere fatta nelle maniere più meritocratiche possibili il ruolo unico non è incompatibile con la meritocrazia bisogna farlo bene evidentemente e poi via di seguito allora sapete perché mi sono convinto che un modello che privilegi la valutazione del singolo è un modello che alla fine è preferibile guardate per l'esperienza che ho fatto come rettore d'altra parte facendo il rettore si fanno un po' di esperienze noi lasciamo stare il piano straordinario dove insomma i nostri ricercatori converranno che noi abbiamo avuto molti posti fortunatamente e una grande parte dei ricercatori che hanno avuto l'abilitazione scientifica nazionale hanno potuto accedere al ruolo degli associati noi abbiamo bandito già 136 posti insomma vinti quasi tutti da candidati interni con eccezioni che sono trascurabili ma il problema invece si è posto sugli ordinari dove lì i posti sono pochi dove noi abbiamo fatto dei concorsi aperti io penso che siamo uno degli atenei che ha fatto i concorsi più aperti di tutti voglio dire addirittura abbiamo previsto che i candidati dovessero certamente avvalersi di referenti internazionali e dovessero fare un seminario pubblico come si fa in molte università nel mondo per potersi fare conoscere dal dipartimento eccetera che è successo? è successo che nel 90% dei casi i candidati erano tutti interni non era chiuso non erano posti riservati erano aperti però i candidati erano tutti interni i più delle volte bravissimi candidati e per una posizione erano lì a contendersi la posizione in 4, 5, 6 qualche volta 7 candidati ovviamente c'era una commissione fatta prevalentemente da esterni questa commissione queste commissioni più delle volte hanno lavorato bene io come rettore ho seguito i lavori delle commissioni però insomma quando hai 6-7 persone molto brave alla fine devi scegliere uno tu puoi farlo nel miglior modo possibile ma uno viene fuori il risultato di questo è che si sono create in tanti ambiti delle situazioni di tensione delle situazioni di fibrillazione perché poi magari si sceglieva un candidato perché era un epsilon sopra l'altro e poi l'epsilon è sempre discutibile evidentemente perché se lo vedo da un altro punto di vista ovviamente una persona va di un epsilon di sotto con una situazione che non ha fatto bene al nostro sistema perché su questo io concordo con loro noi dobbiamo essere un sistema che valuta seriamente le persone però poi andare a mettere in competizione i nostri candidati dei nostri dipartimenti e per di più affidare questa scelta tante volte perché i dipartimenti non la volevano fare intendiamoci bene perché c'era la possibilità anche di fare ma comunque andare ad affidare questa scelta a una commissione esterna è ovvio che non crea un clima di motivazione all'interno delle strutture e questo non è capitato laddove c'erano dei gruppi dove c'erano modesti dal punto di vista scientifico questo è capitato a maggior ragione laddove ci sono dei gruppi che dal punto di vista scientifico sono tra i migliori in Italia allora è questo che mi ha convinto che un sistema del genere non va bene perché è un sistema che alla fine non produce ciò che vogliamo e cioè la possibilità delle persone di avere il giusto riconoscimento della loro attività ma soprattutto un clima collaborativo che non può non esserci all'interno dei dipartimenti perché oggi lo ricordo non ho parlato di ricerca la ricerca è prevalentemente una ricerca collaborativa non solo a livello di Ateneo non solo a livello di Dipartimento ma anche a livello di Ateneo io mi fermo qua su questa parte se questo possa voler dire poi perché se guardo la presentazione di Danilo che poi eliminiamo il nome di associato ed ordinario perché questo vuol dire perché quando il transitorio è passato a questo punto vuol soltanto dire che non chiamiamo più i professori associati ed ordinari e quindi non prevediamo una valutazione particolare nel passaggio di fascia ma prevediamo un insieme di valutazioni francamente rispetto voglio dire al salto di qualità che c'è dicendo che si va a valutare il singolo questo mi pare quasi secondario in questo modo tra l'altro in tutti i paesi del mondo mentre la TENU cioè il passaggio se vogliamo da ricercatore a tempo determinato ad associato prevede una valutazione molto semia in alcuni casi anche molto selettiva il passaggio ad associato ad ordinario normalmente insomma avviene naturalmente tranquillamente purché si verifichi che la persona ha svolto bene ecco la sua attività quindi sostanzialmente a titolo del tutto personale ripeto e senza voler impegnare chiaramente nessuno il modello soprattutto come è stato declinato poi da Danila e beh insomma più o meno mi sembra nelle grandi linee abbastanza condivisibile ma resta di nuovo transitorio perché ripeto a regime forse ci metteremo tutti d'accordo che una cosa del genere va bene poi decidiamo solo se vogliamo mantenere il nome associato ad ordinario dico già che sarà difficile non mantenerlo perché ci saranno molte pressioni per mantenerlo ma comunque voglio dire è quasi un fatto nominale marginale e il transitorio che facciamo abbiamo tre problemi grossi nel transitorio e con questo vorrei concludere sono quelli che ho già detto prima il primo problema sono i ricercatori a tempo indeterminato che restano nel ruolo di esaurimento almeno se non cambia la legge cosa facciamo possiamo pensare di governare un sistema e insomma di renderlo in qualche modo scusatemi un'espressione impropria ma la voglio usare apposta di renderlo in qualche modo produttivo con i due quinti del personale che è lì in uno stato in un limbo che non sa cosa farà non sa se può fare didattica non può fare didattica non sa esattamente quali funzioni ha perché prima lo sapevano nella vecchia legge le funzioni del ricercatore a tempo indeterminato potevano piacere o non piacere nella nuova legge non si sa più perché sono in un ruolo ad esaurimento la logica mi dice e torno di nuovo alla logica che in un ruolo ad esaurimento ci può stare un numero limitato di persone non ci può stare un numero elevato di persone questa cosa è insostenibile dal punto di vista del sistema quando nell'ottanta fu fatta la stessa cosa il legislatore e il governo di allora fecero in modo che la gran parte degli assistenti diventassero associati e nel ruolo di esaurimento restarono poche figure e questo è accettabile perché ci può essere qualcuno che ha un'attività scientifica un'attività didattica che non che non suggerisce il passaggio a un altro ruolo ma certamente non può essere una cosa che vale per più di 10.000 ricercatori se no ripeto il problema poi ce lo troviamo è un problema di governo del sistema io che faccio un vettore che governa un sistema piccolo piccolo però insomma un po' proietto cosa vuol dire andare a governare insieme a tutti gli altri vettori ovviamente il sistema dell'università italiana e questo è il primo problema quindi bisogna risolverlo come? come dice Danilo che transitano automaticamente nel ruolo dei professori facendo un piano straordinario nuovo ma con dei numeri consistenti che consenta a tutti quelli che prendono l'abilitazione scientifica nazionale di transitare nel ruolo dei professori associati non lo so ma sicuramente non si può lasciare così poi e questo è il primo problema e questo richiede un po' di risorse però un pochettino di risorse questo sostanzialmente lo richiede ma ce ne sono altri due problemi che richiedono ancora più risorse uno è quello del precariato cosiddetto ora noi abbiamo migliaia al Politecnico centinaia di assegnisti di ricerca pre post gelmini eccetera per i quali non stiamo dando non dico delle certezze ma nemmeno insomma qualche indicazione di quali potranno essere le linee e i percorsi di crescita il risultato di tutto questo è che quelli che hanno maggiori possibilità non dico i più bravi ma ci sono delle aree dove ci sono maggiori possibilità escono e tipicamente vanno all'estero allora abbiamo il problema di questo grandissimo numero di persone valide in generale che si sono formate per cui abbiamo speso un sacco di soldi e vorrei che i parlamentari tenessero conto di quanto la comunità ha investito per formare queste persone che adesso non hanno oggettivamente degli sbocchi alcuni di quali hanno già anche un'età che comunque è sicuramente superiore rispetto all'età media in cui si deve entrare normalmente nell'università e poi abbiamo il terzo problema che è quello dei giovani cioè di quelli che finiscono il dottorato e che vorrebbero capire se possono fare una carriera universitaria o una carriera da qualche altra parte questi problemi apparentemente confliggono perché uno dice cosa faccio è come nella scuola assumo i precari o faccio entrare i giovani no attenzione che chi governa un sistema deve tener conto di tutti e due gli aspetti perché non si può pensare che persone su cui noi abbiamo investito moltissimo adesso siano lasciate ma non si può nemmeno pensare che i nostri giovani cioè quelli che conseguono un dottorato o hanno conseguito da poco un dottorato non vedano alcuna prospettiva è ovvio che questo problema è molto più complesso del ruolo unico e il ruolo unico non risolve questo problema però è un problema che noi abbiamo il dovere come tecnici di porre alla politica grazie ringraziamo il nostro rettore per l'intervento per il fatto che abbia forse ancora infittito di più la situazione dei problemi che avevamo cercato comunque di contenere quindi credo che sul tavolo adesso ci siano già un bel po' di temi per cui passo adesso la parola al professore Alberto Tesi rettore dell'università degli studi di Firenze segretario generale della conferenza dei rettori delle università italiane di Firenze ci eravamo visti scusate ci eravamo visti a Firenze in una occasione precedente certamente il tema del convegno è rilevante anch'io qua farò come Marco Gilli che mi ha preceduto parlerò a titolo personale non certamente per quanto riguarda la conferenza dei rettori di cui sono attualmente segretario e eventualmente mi riferirò a qualche esperienza nell'Ateneo di Firenze io credo che molte delle cose che ha detto Marco forse sarà perché abbiamo fatto anche PRIN insieme per diversi anni quindi abbiamo forse un modo abbastanza simile di ragionare le potrei ripetere quindi su questa parte mi soffermerò meno ma vorrei vista la presenza di numerosi esponenti politici che ringrazio per la partecipazione sottolineare ancora una volta la difficoltà del sistema universitario nazionale una difficoltà che parte da lontano forse nemmeno solo dal 2008 diciamo con la famosa legge 133 ma già da prima da prima in quanto probabilmente qui c'è anche Luciano Modica dall'autonomia dall'autonomia in qualche modo che probabilmente gli Atenei non hanno saputo interpretare in modo corretto mi ricordo un incontro qualche anno fa proprio con me e altri rappresentanti del Senato di Firenze che aveva grossi problemi economici quando era sottosegretario al Ministero cioè la difficoltà per il sistema di interpretare correttamente l'autonomia e quindi di sapere anche programmare quelle che sono le proprie attività e in particolare la sua attività principale che è la programmazione del capitale umano questo è un tema rilevante credo che da allora le università si siano messe d'impegno a cercare di dare delle risposte però il sistema universitario è in grande difficoltà io credo che sia importante che il Premier abbia detto che quest'anno è un anno costituente per l'università credo seguiranno anche poi dei fatti e c'è stato anche un incontro mi sembra giovedì passato che ha segnato un po' l'inizio di questo percorso vorrei cominciare con un dato che penso conoscete ma insomma credo sia abbastanza importante l'ultimo diciamo analisi fatto a livello europeo se andiamo a vedere la percentuale dei giovani che hanno un'età compresa tra 30 e 34 anni e andiamo a vedere quanti di loro sono laureati in Italia siamo intorno al 22% è un dato diciamo che è l'ultima posizione nell'Europa a 28 contro un tasso medio del 36% e alcuni paesi che sono al 50% cioè uno su due dei giovani che hanno 30 35 anni hanno un titolo di studio quindi io credo che il primo punto che una costituente per l'università dovrebbe in qualche modo impegnarsi a risolvere è come far svolgere meglio alle università questo suo compito istituzionale fondamentale che è quello di far crescere diciamo non solo le conoscenze e le competenze professionali dei nostri giovani ma anche la loro capacità di essere come si dice cittadini consapevoli in altri termini non vorremmo che l'impegno almeno questo è il mio pensiero personale per una costituente dell'università sia come l'università è importante anche questo aiuti la crescita del paese ma credo che il primo compito per aiutare la crescita del paese sia aumentare il tasso diciamo dei nostri laureati perché questo sia altamente correlato come è dimostrato da molti studi anche poi effettivamente con la capacità del paese stesso dico questo perché effettivamente questa difficoltà nasce dal fatto che forse il paese non ha mai considerato l'università come uno strumento diciamo decisivo per la propria crescita culturale scientifica e professionale se andiamo poi a vedere quello che è accaduto con la legge 240 questo effettivamente diciamo è stato ancora se si può dire peggiorato rispetto a prima noi adesso oggi abbiamo una situazione demografica abbastanza particolare a livello universitario abbiamo circa 250.000 laureati di primo livello ne abbiamo 80 ogni anno 80.000 laureati magistrali quindi abbiamo un rapporto 1 a 3 essenzialmente non è proprio 1 a 3 è un po' più alto perché nei laureati di primo livello ci sono anche ciclo unico quindi è leggermente un 60% e un 40% abbiamo circa 10.000 dottori di ricerca l'anno quindi abbiamo un rapporto circa 1 a 8 fra laureati magistrali e dottori di ricerca abbiamo poi circa 30.000 assegnisti di ricerca contrattisti borsisti ovviamente tenendo conto che questi hanno contratti che variano diversi anni essenzialmente questo potrebbe essere diviso per 3 quindi 10.000 l'anno si possono considerare quelli nuovi come dire che storicamente il dottore di ricerca almeno in un anno iniziale ha sempre avuto più o meno l'opportunità di fare un assegno di ricerca però abbiamo circa 3.000 ricercatori a tempo determinato e di questi solo 300 sono ricercatori a tempo determinato di tipo B quindi quello che è stato fatto con la riforma diciamo 240 sul reclutamento in particolare su questo inserimento del ricercatore a tempo determinato al posto del ricercatore a tempo indeterminato che è stato messo a esaurimento diciamo non ha per il momento prodotto quasi niente e questo se si può dire dopo 4 anni ci troviamo in una situazione ancora più complicata di quella che era 4 anni fa per l'inserimento dei giovani nel sistema universitario nel mondo della ricerca e ovviamente poi quindi il fatto che oggi i giovani vadano fuori forse anche a fare la laurea magistrale perché si rendono conto di queste difficoltà e quindi su questo io credo sia un estremo a urgenza di cui vorrei che gli esponenti politici se ne rendessero conto ne prendessero una forte consapevolezza per fare un qualche intervento nell'ottica anche di quelli che sono stati presentati per indicare una nuova figura per ruolo sul quale poi però come tutte le cose se devono funzionare bisogna in qualche modo mettere le risorse perché altrimenti diciamo poi si fa la stessa cosa che è stata fatta con la legge 240 il dato in effetti se è stato questo intervento sembra adesso di spostare da 4 anni a 6 anni per gli assegnisti di ricerca ma io vorrei dire agli esponenti politici questo è solo un rinvio del problema tra due anni sarà ancora più grosso il problema se non si riesce a intervenire a intervenire con decisione dando la possibilità poi concreta per questi giovani di inserirsi all'interno del sistema universitario nel mondo della ricerca su questo vorrei anche sottolineare quello che abbiamo fatto all'università di Firenze forse l'ho già accennato in un'altra occasione però noi abbiamo sempre cercato per i ricercatori tipo A quelli fatti su fondi d'Ateneo quindi su FFO poi ci sono quelli fatti su fondi di ricerca quindi quelli che si dicentrano nella programmazione dei dipartimenti li abbiamo assegnati ai dipartimenti però con un vincolo diciamo fra virgolette di doverli trasformare in un posto da associato entro dieci anni quindi ricercatore tipo A poi viene convertito in ricercatore tipo B ovviamente non c'è la continuità della persona perché sapete sono concorsi diversi e poi dopo tre anni diventa diciamo professore associato ecco su questo diciamo abbiamo al momento ricercatore tipo A sono partiti tre anni e mezzo fa ne abbiamo già convertiti una decina ne stiamo già convertendo in B un'altra quindicina e questi dovrebbero diventare fra tre anni due quelli che sono diventati ricercatori di B dei professori associati cioè qualche modo abbiamo implementato quello che si parla adesso come professori junior che dice io credo che questa sia una strada ma quello che abbiamo potuto fare è ben poco perché abbiamo avuto certamente sapete tutti il blocco del turno fra il 20% per due anni non è certo stato facile voi dovendo ottemperare altre cose quindi mi raccomanderei soprattutto che le riforme sono una bella cosa da scrivere però poi certamente le risorse sono fondamentali perché senza risorse io credo che il problema credo si potrà anche risolvere da sole alla fine cioè tanto stando a aspettare le persone in qualche modo fra virgolette migliori o chi ha una chance se la va a giocare laddove ci sono le chance il mondo è molto piccolo oggi più che l'Europa hanno fatto l'Erasmus probabilmente le compagnie aeree lo costa dell'Europa stessa e della Commissione Europea oggi i ragazzi si muovono si muovono in grande facilità e non è forse nemmeno male se potessero tornare un articolo qualche giorno fa sul Corriere mi sembra di Dacia Maraini che diceva che in America questi nuovi giovani laureati dottorandi che vanno là stanno portando un'Italia un po' diversa degli immigrati diciamo di inizio secolo che hanno fatto tanto ma che fanno vedere che in Italia c'è anche una tradizione di studio importante d'altra parte se noi vediamo l'FFO e chiaramente tutti sappiamo che c'è stata una riduzione fortissima un miliardo su sette ma poi se andiamo a vedere col valore diciamo dell'inflazione è ben più di un miliardo su sette questo ovviamente insieme al blocco del turnover e non dimentichiamolo al blocco degli stipendi ha permesso al sistema di tenere ma il sistema ha tenuto solo per questo io penso che finisco un mandato a ottobre voglio dire ormai dato quello che potevo dare ma effettivamente il sistema ha tenuto perché diciamo gli universitari forse perché in qualche modo passiamo il nostro tempo nei laboratori e nelle aule non andiamo molto facilmente a sbanderare anche quelli sono i nostri diritti anche sulla questione stipendiale non abbiamo detto molto abbiamo cercato di dire qualcosa all'inizio specialmente per i più giovani ricercatori ma non c'è stato molto da fare io dico che anche questa è una cosa che dovrebbe essere segnalata tenuto conto come è stato detto in precedenza non è che nemmeno che gli stipendi diciamo in Italia siano così fuori dal mercato nel senso positivo insomma ecco quindi su questo è un altro elemento l'altro elemento importante è certamente la messa in esaurimento del ruolo dei ricercatori anche su questo noi abbiamo cercato nel nostro ateneo perlomeno gli organi si sono ispirati al principio che chi ha l'abilitazione una chance la deve avere certamente l'abilitazione dura un certo tempo anche qui è un problema di risorse perché il piano associati bisogna riconoscere è stato limitato ma è stato un piano che ha aiutato perché c'erano risorse vere essenzialmente e quindi io credo che anche su questo è una riflessione da fare perché secondo me chi ha svolto questo è il mio pensiero personale ma insomma chi ha svolto un certo ruolo quindi ha fatto didattica insomma e ha un riconoscimento che lo abilita anche scientificamente secondo me una chance di diventare associato la deve avere altrimenti non siamo credibili come sistema quindi se la legge dei 240 aveva questo come obiettivo lo deve ancora perseguire secondo me l'altro tema è ovviamente la difficoltà sapete che c'è adesso di passaggio da associato a ordinario anche questo è un problema è un problema perché non ci sono risorse è un problema perché diciamo sapete con questa variabile dei punti organico diciamo che poi in qualche modo sono stati molto contingentati per così dire proprio io direi drasticamente ridotti negli anni è difficile fare una programmazione possa andare verso le aspettative quindi ripeterei il fatto che si può pensare una riforma dello Stato giuridico non l'ho mai capito fino a un fondo come mai forse qualche esponente politico ce lo potrà dire non è stata fatta nella legge 240 perché io dico anche ora poi parlo come rettore voglio dire la riforma dello Stato giuridico potrebbe dare qualche leva a un rettore per cercare in qualche modo di gestire anche in modo più efficace la programmazione è stata una non credo una dimenticanza probabilmente la pressa di coscienza la consapevolezza è un tema molto difficile però io credo che effettivamente una rivisitazione sia necessaria è un tema difficile per il modello a regime io credo e qui condivido forse ho le stesse esperienze quanto ha detto Marco Gilli insomma la differenza fra associate e full professor è molto modesta i colleghi diciamo applicano e sulla base delle possibilità hanno una risposta singola effettivamente quindi da questo punto di vista non è che che si inventi nulla di nuovo in qualche modo a prevedere una progressione interna certo va fatto coniugando diciamo coniugando questo tipo di progressione comunque al miglioramento della qualità media del sistema universitario quindi dobbiamo in qualche modo qualificare sempre di più il sistema e in particolare il suo livello medio su questo credo ha spiegato già bene Marco Gilli la serie A e la serie B insomma non esiste come conferenza di rettori noi ci siamo anche impegnati in questi anni a mantenere il sistema abbastanza unito individuando anche in particolare sempre sul tema delle risorse la possibilità di contingentare in qualche modo le perdite annuali o gli incrementi di FFO perché effettivamente riteniamo che il sistema debba essere messo in condizione di avere un livello medio buono poi nel caso ci fossero risorse in più allora sulle risorse in più ci può essere effettivamente una competizione ma quando la competizione è sempre sulle risorse che ogni Ateneo mette le mette un po' e poi in qualche modo ritrova le stesse o ne ritrova meno di più è sempre difficile quindi questo è stato anche un impegno certamente in un momento di difficoltà a risorse decrescenti per mantenere in piedi un sistema il problema grosso è certamente quello del transitorio questo lo dicono tutti siamo tutti consapevoli poi come ingegnere ancora più di più perché effettivamente d'altra parte non scopriamo niente di nuovo se pensiamo alla legge Fornero è stato un problema di transitorio più che di legge io penso che su questo debba essere fatta un'analisi molto profonda a me dispiacerebbe molto che un'altra volta tutto si arena su un transitorio e quindi di avere diciamo un regime un regime anche nel quale come dire non ci sono distinzioni di ruolo può essere una una soluzione che come ho detto già in sistemi molto qualificati diciamo è più o meno nella sostanza però il transitorio va gestito va gestito con grande attenzione io credo che su questo è necessario ho visto il primo relatore Bazzanella non è entrato su questo ma come rettore anche se in scadenza diciamo la questione diciamo delle risorse sul transitorio è fondamentale è fondamentale perché altrimenti tutto diventa nuovamente poi un tirare la corta da una parte o dall'altra io credo come abbiamo detto anche noi recentemente se come conferenza dei rettori che se non aumentano le risorse non ha nemmeno senso andare avanti con il nuovo modello standard perché il difetto è che lo stesso modo se non aumentano le risorse è inutile secondo me fare un nuovo stato giuridico cioè lo condizionare fortemente perché alla fine poi saranno altre persone che parleranno diciamo e discuteranno però alla fine vedendo un po' la storia della nostra università ci troveremmo a dire che tutto sommato non è andato come ci si aspettava d'altra parte le risorse del nostro sistema ormai sono direi se posso dire ridicole rispetto a quelle di altri paesi europei e quindi secondo me nonostante ci sia stato un impegno diciamo degli atenei a ridurre quelli che potevano essere gli sprechi però i dati parlano da sé quando abbiamo perso più di 10.000 professori e ricercatori saldo netto fra quelle entrate e uscite negli ultimi cinque anni non so cosa dobbiamo fare ancora effettivamente il rapporto studenti-docenti è sul 30 ormai studenti-docenti è 30 voglio dire poi ci dicono siete indietro nelle classifiche voglio dire ma se andate a vedere il rapporto studenti-docenti delle migliori 10 sono tutti sotto 10 quelle ovviamente sono non c'è assolutamente confronto quindi un'altra volta ripeto il tema delle risorse è fondamentale fondamentale poi un altro elemento che vorrei è stato citato mi sembra dal è stato citato il problema della mobilità tra gli atenei è un tema importante questo oggi c'è questa regola del 20% e fra l'altro è sempre di difficile valutazione non sappiamo bene su quali anni deve essere considerata se su quello se poi è su un triennio se è sull'altro c'è un livello ormai di norme che mettono certamente in difficoltà tutti anche chi di solito conti li sa fare il problema della mobilità è un tema rilevante nella 240 c'era stato un tentativo di fare una mobilità legata al fatto dove venivano chiusi alcuni corsi di studio che ci si poteva trasferire poi mi sembra che non sia stata mai è stata incentivata un anno poi non è stata mai più incentivata certo la mobilità va incentivata io credo che debba essere su questo anche su questo debba essere visto in dettaglio non mi convince molto e qui lo dico il portarsi il budget da una tenea all'altro perché non lo vedo come una pratica essenzialmente standard a livello internazionale quindi mi sembra un'idea così che possa essere un po' singolare però certamente forse una politica incentivante a livello centrale di sistema potrebbe essere in qualche modo inserita come possibilità d'altra parte il problema della mobilità è forte nel nostro paese siamo abbastanza diciamo rispetto a altri paesi è difficile muoversi è difficile molto muoversi e però c'è chi lo sta facendo perché se vedete insomma basta leggere un po' casomai qualche università anzi solo qualche università non statale lo sta facendo andando a fare campagne acquisti in qualche ateneo e prendendosi qualche professore insomma casomai più nel settore della medicina lo sappiamo però anche questo è un tema che in qualche modo può portare via via a impoverire le università se diciamo la politica non se ne fa carico di dare un'indicazione sempre tornando al parallelo e poi concludo diciamo col sistema che meglio conosco diciamo il sistema delle università americane in particolare quelle della California ma insomma anche lì diciamo non è strano che un assistant professor ottenghi un track abbia uno stipendio superiore a un full professor non è strano questo accade perché ovviamente lì tutto viene in qualche modo commisurato diciamo alla quantità e alla qualità dell'insegnamento ecco quindi da questo punto di vista personalmente non avrei problemi particolari se un ricercatore avesse uno stipendio superiore a un ordinario se effettivamente ciò corrisponde a quello che fa quindi anche su questo forse una qualche idea di un vecchio modello che è circolato molti anni fa di uno stipendio base più una parte diciamo poi ovviamente c'è il problema di chi decide chi valuta chi assegna sono sempre i soliti problemi però d'altra parte certamente bisogna essere in grado come comunità di farlo ecco effettivamente poi se lo dobbiamo fare delle scelte dobbiamo essere in grado poi di poter diciamo essere conseguenti nelle decisioni credo che sia importante questo punto come è stato presentato il ruolo unico quest'idea essenzialmente del fatto che questa idea che viene dal basso di avere un'università che è internamente collaborativa quindi sostanzialmente il ruolo unico è visto come un modo siamo tutti allo stesso pari si collabora ecco io credo che questo sia fondamentale diciamo perché di fatto gli elementi che vengano apportati a giustificazione sono chiari insomma quando mandiamo un lavoro a una rivista da revisore può essere chiunque anzi molto spesso sono dei dottorandi insomma anche perché sono quelli che fanno più di tutto nelle ricerche cioè negati tutti ci possiamo guardare indietro nella carriera così è voglio dire niente di sorprendente da questo punto di vista ecco vedendo la storia dell'università italiana non vorrei però che tutti uguali voglia dire tutti contro tutti questo è un problema che di consapevole io credo che voi che state portando avanti questo siete molto giovani nella storia dell'università e non avete assolutamente questo retropensiero però questo retropensiero è che ha vissuto l'università e forse insomma ha visto certi atteggiamenti non vorrebbe che finisse in quel modo lì ecco essenzialmente quindi ecco dal punto di vista di principio vorrei chiudere su questo una raccomandazione soprattutto per i per i più giovani che doggiano destire il futuro di non ritrovarsi fra 20 anni a dire l'università è come la scuola era prima insomma ecco quale questa deve essere evitato sapete benissimo che deve essere evitato ma credo che gli strumenti ci siano se le persone diciamo condividano un fine e condividano un fine come ha detto Marco Gilli che abbina diciamo la parità nella meritocrazia se così si può dire ecco su questo io credo che di aver concluso grazie ringrazio il rettore Tesi per l'intervento stavo facendo una riflessione cioè che il riconoscimento dell'università come bene del paese come preziosa eredità non può che richiedere un investimento di risorse che finalmente ponga questa istituzione al centro dell'attenzione anche dell'opinione pubblica lo slogan della riforma Gelmini che si sarebbe dovuto attuare in effetti a costo zero ha sortito l'effetto opposto cioè l'università nella percezione diffusa ha perso ulteriormente di importanza ciò che non costa niente vale anche niente e quindi questo è stato un'altra dei portati di questa legge allora io adesso passerei la parola a Maria Rosaria Tinè eletta presso il consiglio universitario nazionale e docente di chimica fisica presso l'università di Pisa buongiorno a tutti io ringrazio il rettore Gigli del Politecnico di Torino la rete 29 aprile e il coordinamento dei ricercatori del Politecnico di Torino per questo invito che mi dà la possibilità di presentare in quest'aula alcune delle conclusioni che il consiglio universitario nazionale ha fatto sulla riforma dello stato giuridico argomento estremamente caldo quello della riforma dello stato giuridico ed estremamente dibattuto perché diverse posizioni si sono confrontate su questo tema spesso con posizioni opposte che forse non si riflettono in quest'aula ma questa è una situazione un po' particolare con situazioni molto contrapposte tra di loro e che si sono quindi alternate e hanno portato a interpretazioni a soluzioni che hanno finito con l'essere intricate non sempre condivise e con il risultato che le riforme poi effettivamente proposte non hanno attecchito diceva il rettore Tesi perché lo stato giuridico i politici non hanno riformato lo stato giuridico ci hanno provato ovviamente a riformare lo stato giuridico hanno fatto delle proposte il risultato è che nessuna di questa proposta è arrivata a una soluzione organica che permette poi di gestire e di rinnovare l'università permettetemi di cominciare facendo una brevissima storia di quello che è stato lo stato giuridico all'interno nell'evoluzione dell'università italiana e lo faccio molto velocemente con l'idea di puntualizzare alcuni termini e alcuni concetti allora c'era l'università italiana prima degli anni 60 un unico ruolo dei professori ordinari quindi c'era effettivamente un ruolo unico che era accompagnato però da una pletola di figure tutte a tempo determinato che lavoravano all'interno dell'università la 382 ha cambiato questa situazione continuando a chiamare il ruolo dei professori universitari al singolare ma dividendolo in due fasce c'erano i professori associati e i professori ordinari accanto a questo ruolo la 382 introduceva un ruolo nominalmente parallelo ma non di fatto parallelo che era quello dei ricercatori universitari nel tempo quegli ricercatori universitari all'inizio non avevano la funzione docente quindi si trattava effettivamente di un ruolo diverso non avevano la funzione docente non avevano lo stato giuridico stato giuridico che è sempre stato promesso e non è mai arrivato i ricercatori sono a destra di esaurimento non hanno mai avuto uno stato giuridico la funzione docente gli è stata invece assegnata dalla legge 341 del 90 che consenteva loro di fare supplenze quindi in qualche maniera in modo implicito e in modo un po' confuso quello che è successo è che si era realizzato nella prassi anche se non di diritto un ruolo dei professori universitari in tre fasce c'erano i ricercatori gli associati e gli ordinari mai con una definizione giuridica il Parlamento ha tentato di fare più volte senza mai riuscirci per l'opposizione per ragioni diverse da una parte dei ricercatori dall'altra parte di una parte dei ricercatori dall'altra parte di una parte dei professori la legge Moratti ha messo ad esaurimento questo ruolo dei ricercatori sia pure ad esaurimento differito la legge 240 con un escamotage introducendo dicendo che da quel momento in poi i ricercatori che potevano essere assunti erano ricercatori a tempo determinato ha di fatto messo immediatamente ad esaurimento il ruolo dei ricercatori anticipando quell'esaurimento che secondo la legge Moratti sarebbe dovuto arrivare nel 2013 e che invece non arriverà mai adesso un'altra puntualizzazione che volevo fare sui termini facendo un po' di chiarezza sui termini perché si dice il ruolo dei professori universitari è rimasto un ruolo al singolare e nessuno l'ha mai detto quindi c'è un ruolo unico dei professori universitari ma è un vero ruolo unico? Non ai fatti perché in realtà per passare dalla posizione di associato alla posizione di ordinario dalla posizione di ricercatore alla posizione di associato si fa un vero e proprio concorso che è lo stesso concorso che si fa se da una carriera esterna si vuole entrare nel ruolo dei professori Alla condizione del ruolo unico si aggiunge un'altra visione che adesso avete tutti chiamato ruolo unico una volta qualche deposito si chiamava docente unico e partiva dalla considerazione che i professori universitari facevano tutti lo stesso lavoro avevano tutti gli stessi compiti di didattica e di ricerca e quindi dovevano avere i stessi diritti e le stesse responsabilità all'interno di questo docente unico rimane il problema della carriera c'è una carriera all'interno di questo percorso diceva il rettore Tesi il problema del ruolo unico o del docente unico se vogliamo è che si può scadere in quella che è diventata la situazione della scuola la carriera si fa solo per anzianità oggi è stato detto con chiarezza che la carriera all'interno di questo ruolo docente deve esistere deve essere una carriera che viene valutata che passa attraverso diversi livelli e deve essere valutata il timore e quindi il problema è se le valutazioni di questa carriera devono essere tutte locali fatte all'interno dell'ateneo se ci devono essere dei momenti di valutazione nazionale invece di questa carriera allora io non ho nessun dubbio sull'unitarietà della funzione docente ogni docente all'università ha gli stessi compiti di didattica e di ricerca però è anche vero che all'interno dell'università i docenti si differenziano in qualche modo si differenziano per qualità e quantità del lavoro che svolgono si differenziano per impegno quindi in qualche modo questa carriera si deve poter percorrere a velocità differenti quelli che hanno una maggiore capacità di fare lavoro di ottenere maggiori risultati scientifici devono avere la possibilità di abbreviare la carriera che è scandita in questi differenti livelli perché i risultati scientifici si possono ottenere con maggiore o minore rapidità secondo delle capacità di ciascuno del merito dell'impegno e così via qual è la differenza tra le due situazioni del ruolo unico come è visto dalla 382 del ruolo del professore universitario come è visto dalla 382 o del ruolo unico come è visto dal docente unico come è stato presentato qui oggi sono essenzialmente le modalità di carriera è per questo che io più che di ruolo unico preferisco parlare di carriera unica quello che è importante è che si riesca a costruire all'interno del ruolo docente un'unica carriera di professore universitario lasciatemi a questo punto prima di delineare i dettagli di quello che i problemi che vedo in questa carriera dirvi di quelle che sono state le posizioni del consiglio universitario nazionale e i documenti che il consiglio universitario nazionale ha prodotto ripercorrendo alcuni di questi documenti allora dicembre del 2008 commentando il decreto legge 180 2008 che poi sarebbe diventato la legge 1 del 2009 il CUN scriveva il CUN non condividendone che nel presente disegno di legge vengano in più punti attribuiti ai soli professori ordinari alcune funzioni finora proprie di tutte le fasce e si riferiva in particolare al fatto che i professori associati e i ricercatori venivano esclusi dalla possibilità di partecipare alle valutazioni comparative per l'assunzione di persone della loro stessa fascia il CUN ribadisce la necessità di affrontare in maniera organica e definitiva la materia dello stato giuridico del personale universitario tenendo conto delle seguenti priorità valutazione rigorosa delle strutture e dei docenti attivando allo scopo sistemi di valutazione articolati previsione per il futuro di un ruolo unico della docenza con distinzione tra fase di reclutamento e progressione di carriera ed individuazione di meccanismi di incentivazione della mobilità due mesi dopo nel 2009 commentando le linee guida del governo per l'università presentate nel 2008 dal ministro Gelmini e in particolare il capitolo che riguardava lo stato giuridico dei docenti e il reclusamento dei docenti scrive un modello di docenza in cui le progressioni di carriera vengono effettuate su base rigorosamente valutativa e non soltanto comparativa e che si basino su un numero di livelli non necessariamente ancorato alla realtà odierna potrebbe sostituire efficacemente l'attuale regime di automatismi salariali e ancora la progressione di carriera potrebbe avvenire sulla base di valutazioni periodiche con momenti di verifica locali alternati a quelli nazionali e non andrebbe confusa né amministrativamente né finanziariamente con il reclutamento iniziale nel maggio 2010 in cui invece esprimeva un parere sul disegno di legge che sarebbe poi diventato la legge 240 che allora è in discussione al senato sottolineava l'importanza di realizzare un modello di docenza in cui la progressione di carriera all'interno del ruolo di professore sia articolata su una pluralità di livelli e distinta da reclutamento iniziale quindi prima ancora dell'approvazione della legge 240 e mentre questa era in discussione nella calorata discussione che tutti ricordiamo il CUN aveva espresso il suo parere su un possibile modello di carriera che era basato su un ruolo unico della docenza una progressione di carriera all'interno del ruolo di professore articolata su una pluralità di livelli e percorsa sulla base di valutazioni periodiche che queste valutazioni periodiche avessero dei momenti di verifica locali alternati con dei momenti nazionali e che ci fosse una netta distinzione tra la fase di reclutamento e quella della progressione di carriera e si preoccupava di aggiungere che fossero individuati dei meccanismi di incentivazione della mobilità quindi si preoccupava dei due aspetti che sono poi due punti cruciali e delicati della carriera unica cioè che la progressione di carriera avvenisse tutta attraverso momenti di valutazione ai quali naturalmente intendiamo ci va accompagnata un incremento salariale che permetta a chi non ha fatto lo scatto di carriera di mantenere il potere di acquisto del suo stipendio ma questa è una faccenda a parte e quindi si preoccupava che le progressioni di carriera fossero valutate da una parte e dall'altra si preoccupava dell'altro aspetto che era quello di proporre meccanismi per incentivare la mobilità dei docenti da un ateneo all'altro poi è arrivata la legge 240 e la legge 240 è andata in direzione diametralmente opposta a questa proposta del Consiglio Universitario Nazionale perché la legge 240 ha introdotto ha diviso le fasce dei professori universitari in maniera ancora più netta i ricercatori sono diventati ricercatori a tempo determinato e sono diventati ricercatori a tempo determinato con una pletora di figure di ricercatori a tempo determinato perché sono stati qui citati gli assegnisti gli assegnisti pregio e il mini ci sono dei ricercatori di tipo A ci sono dei ricercatori di tipo B ci sono i ricercatori a tempo determinato ex legge moratti c'è una selva di altre figure di contratti progetto di co-co-co di borse di studio e così via inestricabili ma se vogliamo si può continuare perché anche tra i ricercatori di tipo A e gli assegni di ricerca ci sono diversi trattamenti a secondo che i ricercatori di tipo A siano dei ricercatori di tipo A il rettore tesi l'ho accennato finanziati su risorse dell'Ateneo cioè sull'FFO oppure che i ricercatori di tipo A siano finanziati sulla base di progetti di ricerca il trattamento è diverso nel caso dei ricercatori di tipo A su risorse di Ateneo vengono impegnati dei punti organici organico nell'altri casi invece non vengono impiegati anche questo impiego dei punti organico su figure precarie è una cosa un po' strana e unica credo nel quadro della pubblica amministrazione quindi questo per quanto riguarda la fascia dei ricercatori per quanto riguarda la fascia degli associati e la fascia degli ordinari la legge 240 mette ancora un ulteriore stacco tra le due carriere nel caso della 382 è vero si faceva un concorso che era lo stesso concorso aperto a tutti gli altri però alla fine di questo concorso il professore associato che fosse diventato professore ordinario aveva una ricostruzione della sua carriera la legge 240 rompe anche in questo senso l'unitarietà della carriera perché il professore associato viene praticamente licenziato e riassunto in un altro ruolo e ricomincia la sua carriera da zero anche questo permettetemi di dire che nella pubblica amministrazione è una cosa abbastanza originale non credo si ripeta da altre parti bene allora il consiglio universitario nazionale è intervenuto anche dopo la legge 240 muovendosi devo dire nel quadro della legge 240 cioè cercando di fare in modo che le proposte che faceva in una logica di unificazione della carriera tenessero però conto delle nuove figure che la legge 240 aveva proposto e propone tre documenti tre documenti intitolati ripensare l'assetto della docenza universitaria che sono dedicati nell'ordine logico ma non cronologico ai contratti per pre ruolo all'accesso al ruolo e poi al reclutamento e alla progressione di carriera nel primo di questi si chiede quindi quello che riguarda i contratti pre ruolo si chiede la definizione di un'unica figura di ricercatore a contratto finalizzata all'inserimento di giovani studiosi nella carriera universitaria e che unifichi le attuali posizioni di assigni di ricerca e di ricercatori tipo A nel secondo documento si chiede invece il superamento della figura di ricercatore a tempo determinato di tipo B qualcuno dei miei colleghi alcuni ha detto l'ho sempre trovato una cosa molto molto giusta e molto triste se volete è veramente brutto che una persona venga assunta in una posizione all'interno dell'università e il suo nome sia distinto dal comma di una lettera però così è i ricercatori di tipo B chiedevamo che fossero superati con l'istituzione di una nuova figura di professore a tempo determinato di durata quinquennale e per il quale avevamo proposto il nome di professore junior figura posizione alla quale si accede mediante selezione pubblica comparativa questo per soddisfare al dettato costituzionale che vuole che nella pubblica amministrazione si possa accedere solo attraverso una selezione comparativa continua il documento del CUN il professore junior ha gli stessi diritti e prerogative dei professori di ruolo per quanto riguarda la ricerca gode del diritto dell'elettorato attivo e gradatamente assume incarichi didattici organizzativi coerenti con quelli dei professori di ruolo viene direttamente confermato come professore associato alla fine del quinquennio purché abbia acquisito l'abilitazione scientifica nazionale che ne certifichi la maturità scientifica il terzo documento invece relativamente alle progressioni di carriera diceva che tenuto conto del fatto che non ci sono differenze di stato giuridico tra i professori per quanto concerne le attività didattiche di ricerca il CUN chiede che siano separate le risorse da destinare al primo reclutamento da quelle da destinare al passaggio dalla seconda alla prima fascia e da ruolo dei ricercatori a tempo determinato a quello dei professori nella fascia degli associati e che in un quadro programmatico da definirsi opportunamente anche in funzione della tenure track quindi teneva conto in questo documento anche dei ricercatori a tempo determinato di tipo B o meglio di quelli che alcun piace chiamare professore junior e mi piace che questo termine sia stato ripreso più volte oggi in questo convegno il CUN chiedeva che i passaggi da una fascia all'altra avvengano in via permanente con un rigoroso meccanismo valutativo individuale in conformità a quanto previsto dall'articolo 24 della 240 di cui peraltro si chiedeva la ridefinizione chiedendo la rimozione del limite temporale di sei anni per cui l'articolo 24 vale e la rimozione del tetto del vinco del 50% per l'utilizzo delle risorse in altre parole si chiede che la valutazione comparativa che per me dopo l'abilitazione scientifica nazionale viene richiesta per passare dal ruolo di professore associato al ruolo di professore ordinario dal ruolo di ricercatore a tempo indeterminato al ruolo di ricercatore non al tempo di ricercatore a quello di associato fosse fatta attraverso una selezione di tipo una procedura di tipo valutativo quindi mi sembra abbastanza evidente diciamo mi sembra che sia che risulti abbastanza evidente che quella che era quella che è stata la posizione del del CUN organo democratico di rappresentanza del sistema universitario che mi sembra abbia continuato ad esprimere con una certa coerenza e con continuità il proprio favore alla carriera unica scandita da momenti valutativi relativamente frequenti quindi un sistema che non è necessariamente organizzato su due o tre fasce ma può essere anche organizzato su un numero maggiore di classi di livello di gradi di merito che però devono essere diciamo percorsi in sequenza la carriera è una carriera unica si entra dal primo livello e si percorre in sequenza questa carriera naturalmente a secondo delle capacità di ognuno i vari gradi i vari livelli della carriera possono essere percorsi con maggiore o minore velocità però non deve succedere che un professore meritevole che un professore che ha lavorato in modo con impegno e con buoni risultati di ricerca sia bloccato nella sua posizione di carriera dal fatto che non ci sono posti che la valutazione è comparativa che c'è uno più bravo di lui perché questo si traduce nella estrema competitività di cui si hanno accennato qui molti ma si traduce anche in una grande frustrazione di competenze e di capacità di lavoro e quindi in totale in conclusione in un danno per l'università detto questo è ovvio che la carriera unica è una carriera che presenta molte attrattive ma che presenta anche una serie di problemi e vorrei segnalare quelli che secondo me sono i punti cruciali li segnalo non ne do la soluzione perché penso che la soluzione debba emergere dal dibattito che oggi qui si è aperto e che sicuramente speriamo continui negli ambienti dell'università e nel mondo politico allora carriera unica dicevo quindi il punto è in quante classi numero delle classi nel quale si articola la carriera se il numero delle classi è troppo basso si rischia di tornare al sistema delle fasce in ogni ruolo se il ruolo di livelli che permettono i livelli di carriera tra una fase e l'altra sono troppo lontani si finisce fatalmente per identificare delle fasce all'interno delle quali ci si muove per l'anzianità e questo vorrei un po' ripercorrere un po' troppo da vicino il modello attuale d'altra parte se i momenti valutativi sono troppo frequenti viceversa non si dà alle persone il tempo di diciamo di avere quegli spazi temporali che sono propri di una buona ricerca l'altro punto è tempo determinato o indeterminato nei vari momenti della carriera cioè la carriera è tutta a tempo determinato ci sono dei percorsi dei ritratti della carriera che sono a tempo indeterminato perché questo è un punto importante per quanto riguarda la possibilità di mettere alla prova il neodocente per un certo numero di anni però d'altra parte un periodo troppo lungo a tempo indeterminato è una meglio il tempo indeterminato è necessario a garantire la libertà di didattica e di ricerca che ogni docente ha l'altro aspetto riguarda le procedure di valutazione per il passaggio da una classe all'altra devono essere procedure locali o devono essere procedure nazionali ora siccome non è pensabile che si possono attivare procedure nazionali per il passaggio di ogni livello ad ogni livello però forse non è neanche auspicabile che le procedure siano tutte locali questo a garanzia della comunità scientifica e a garanzia del docente stesso perché è giusto che possa essere valutato da una comunità scientifica più ampia di quella che è strettamente legata al suo Ateneo poi c'è il problema dell'accesso alla carriera che naturalmente abbiamo detto deve essere per forza per concorso ma qual è il tipo di concorso e quali sono le regole con cui questi concorsi vengono fatti e a questo si collega tutto il vastissimo campo che è stato ampiamente citato oggi e di cui problemi sono stati ampiamente enunciati che è la parte del preruolo della fase della pre-docenza altro aspetto ancora mobilità dei docenti tra gli Atenei allora il sistema della carriera unica ben disegnato nel caso in cui ci si muove all'interno dello stesso Ateneo però è giusto che l'università abbia la possibilità di reclutare ogni Ateneo abbia la possibilità di reclutare docenti dall'esterno che vengono da altri Atenei o che vengono anche dall'estero e che ogni docente abbia la possibilità di muoversi da un Ateneo all'altro quindi tutti gli aspetti che riguardano la mobilità della carriera vanno con chiarezza definiti e alla fine il problema più grosso di tutti che ha stato ampiamente citato dal rettore Gigli e dal rettore Tesi come si passa dal regime attuale al nuovo regime di stato giuridico cioè tutta la parte del regime transitorio quindi secondo me questi i problemi principali le domande principali a cui dobbiamo rispondere lasciatemi aggiungere però alcune considerazioni anche seguendo quello che hanno detto il rettore Tesi e il rettore Gigli la carriera universitaria è certamente deve essere una carriera meritocratica credo che ormai l'università vi ha dimostrato con chiarezza che non si spaventa di essere valutata a differenza delle carriere però la carriera universitaria non deve avere un'organizzazione gerarchica la didattica e la ricerca non hanno né uffici né capo uffici bisogna poter ogni docente deve poter dal punto di vista della didattica dal punto di vista della ricerca deve poter prendersi sin dall'inizio tutte le sue responsabilità e godere di tutte le possibili libertà naturalmente una carriera che si può percorrere a velocità differenti ci saranno delle persone che arriveranno al massimo grado della carriera con grande velocità volevo fare una notazione a questo proposito sull'osservazione che è stata fatta da Gian Antonio Stella sul fatto che ci sono solo 15 professori ordinali con meno di 40 anni di anzianità e allora è facile ovviamente giornalisticamente efficace dire uno per mille ce la fa però è anche vero che il fatto che ci siano 15 professori ordinali con meno di 40 anni di età non è un problema dell'università italiana che ci sono nell'università italiana solo 15 persone che sono in grado di percorrere la carriera con una velocità tale da arrivare al massimo livello della carriera a 40 anni vabbè a me non mi sembra una cosa scandalosa lo scandalo nell'anzianità del corpo docente è un altro lo scandalo è che l'età media dei ricercatori sia 47 anni che vuol dire questo che vuol dire che non si stanno assumendo persone giovani cioè non si sta iniziando quello che è il ricambio generazionale nell'accademia italiana questo fa morire l'università italiana che ci siano pochi professori ordinali con meno di 40 anni francamente mi sembra un problema del tutto trascurabile nessuna riforma comunque in ogni caso nessuna riforma di qualunque portata nemmeno quella di questa portata può essere realizzata se non ci sono nuovi investimenti dello Stato nel sistema universitario diceva Camalleri che l'università italiana ha perso 10.000 docenti in 10 anni non è vero l'università italiana ha perso 10.000 docenti in 5 anni nel 2008 i docenti universitari italiani erano 60.000 sono oggi 50.000 il 20% di riduzione non è successo in nessuna pubblica amministrazione lo dico per la terza volta è un'anomalia dell'università nessuna pubblica amministrazione ha perso il 20% dei suoi dipendenti in 5 anni noi abbiamo il più basso rapporto tra il numero di docenti e il numero di laureati ed è dimostrato che c'è una correlazione tra rapporto docente studente e il numero di laureati l'Italia ha il 22% di laureati ha l'obiettivo del 27% di laureati l'obiettivo dell'Europa è il 40% dei laureati si faceva un'altra osservazione a proposito del basso numero di ricercatori rispetto ai progetti europei c'è una strettissima correlazione tra il numero di progetti vinti e il numero di ricercatori noi diamo all'Unione Europea forniamo il 14% del budget dell'Unione Europea dei progetti ricerca e ne richiamiamo l'8% abbiamo l'8% dei ricercatori i nostri ricercatori sono perfettamente in linea con i ricercatori della media europea non possiamo aumentare la nostra competitività se non aumentando il numero dei ricercatori quindi inutile fare allenamenti sui progetti di ricerca per imparare a farli meglio certo è importante ma non è quello il punto significativo sul quale si può vincere e infine voglio concludere visto che mi è toccato essere l'ultimo dei tecnici che concludono a questo punto prima della politica dicendo che l'università è pronta a fare la sua parte l'università è pronta a essere valutata l'università è pronta a competere ad accettare le riforme adesso però l'informazione da una parte perché l'università è stata sotto una campagna mediatica denigratoria fortissima in tutti questi anni l'informazione e la politica devono fare la loro parte vi ringrazio ringrazio moltissimo Maria Rosaria Tinè perché anche la storia dei documenti elaborati nel tempo dal CUN rende palese lo sforzo che da molti anni la comunità accademica sta facendo per disegnare un nuovo sistema giuridico diciamo della docenza se questo è il momento giusto per trovare gli spazi di confronto ce lo dirà appunto la politica giustamente magari coinvolgendoci questa volta anche un po' di più nel ridisegno dell'università anche perché appunto è la politica il nostro interlocutore primo in questo momento a questo proposito io passo la parola all'onorevole Manuela Ghizzoni adesso cerco anche gli appunti che mi sono mi sono fatta che non trovo più naturalmente deputato del partito democratico componente della settima commissione cultura scienza istruzione corretto grazie grazie di questo invito e mentre carichiamo il file io non lo correggo mai tipico della politica questa allora grazie dunque ci sono state molte sollecitazioni stamattina però vorrei iniziare con un ringraziamento non rituale perché penso che oggi sia dopo molto tempo una sede di discussione interessante di riflessione che faccia bene a noi adesso i colleghi forse politici avevano anche altro impegno comunque rimango io a presidiare questo posso garantirlo io vorrei permettetemi iniziare con una citazione si potrebbe dire personale però prima fatemi fare alcune considerazioni generali allora non riprenderò perché l'hanno già detto in tanti tra quelli che sono intervenuti le ragioni della necessità di una rivoluzione l'avete chiamata necessaria senza punto interrogativo non più procrastinabile diciamo così sono ragioni le avete detto li riprendo per titoli sono ragioni di equità ragioni per riconoscere finalmente la qualità e la professionalità l'impegno e il talento delle persone che lavorano all'università anche se appunto con stessi doveri ma non uguali diritti e quindi per riconoscere finalmente una unitarietà di funzione per rompere anche sistemi di potere perché dobbiamo dirlo per superare l'autoreferenzialità cui spesso ha vissuto l'università per una questione di democrazia per uno spirito collaborativo dell'attività all'interno degli Atenei e per l'esercizio della responsabilità siamo stati chiamati noi politici adesso sono rimasta quasi solo io quindi mi prendo questa responsabilità interamente alla nostra incapacità e inefficacia nell'azione legislativa quindi non è un caso che ho iniziato con un emendamento ma poi ci torno sopra però due cose ci tengo a dire rispetto ai temi che sono stati affrontati in particolar modo dai rettori presenti e vi ringrazio risorse personali l'hanno ripetuto in tanti in un'ultima anche la professoressa Tinè ora il tema delle risorse mi è noto è noto e per quanto possibile è un tema che sottoponiamo a chi ha un rango decisionale diciamo così dovrebbe essere pari a noi ma in questo momento è sopra a noi eppure e lo dico perché ad esempio rispetto proprio al tema della risorsa delle risorse e all'incremento dell'FFO quest'anno è a regime di 150 milioni per la quota premiale diciamo non si sono levate se non forse dalla sottoscritta dubbi in merito al fatto che quei 150 milioni che sono appunto a far data dal 2015 e sono a regime vadano in quota premiale mentre potevano essere utilizzati per le ragioni che qui hanno descritto tutti per esempio per nuovo reclutamento mi dispiace posso dire mi dispiace che per esempio parte il CUN forse la CRU se questo non abbia per esempio preso una posizione forte noi abbiamo bisogno che la CRU non i singoli perché i singoli li conosciamo li sentiamo parlare su questo intervenire con competenze e decisione però avremmo bisogno che per esempio la CRU su questo dicesse o l'avesse detto perché naturalmente per noi è stato sostanzialmente impossibile cambiare quella decisione che nasce naturalmente alla ragioneria dello Stato adesso guardo Mila perché ha un ruolo difficile oggi nasce alla ragioneria dello Stato perché per una sorta io dico di ideologica impostazione meglio darli per il merito che non per il personale dell'università al netto della perdita del personale che abbiamo avuto negli ultimi cinque anni noi abbiamo bisogno di sentire voci che dicano guardate la realtà è insostenibile e quindi abbiamo bisogno che quelle risorse che ci sono perché ci sono e ci saranno a regime vengano dirottate per fermare ad esempio l'emorragia di personale questo non è avvenuto il converso poi leggiamo appunto sui quotidiani giovedì scorso l'intervento sui baroni eccetera quindi una cattiva stampa che certamente non fa capire non fa capire al di fuori di queste aule che cosa è quanto è difficile la vita all'interno dell'università personale c'è chiaro a noi che da qualche anno proviamo proviamo e abbiamo provato a contrastare scelte enorme che non abbiamo né apprezzato né sostenuto sulla 2.40 poi ci torniamo dicevo sul personale c'è nota la situazione drammatica del preruolo ma altrettanto grave quella nel ruolo sono stata chiamata in causa più volte stamattina sulla vicenda degli assegni fatemelo dire un emendamento sofferto non è stato presentato quell'emendamento per portare il limite della durata massima da 4 a 6 anni a cuor leggero sapendo che forse stavamo condannando a un altro periodo di lungo precariato persone di talento e di valore che invece dovrebbero forse stabilmente lavorare nell'università ma l'alternativa era abbandonarle e regalarle all'estero lo dico così insomma in modo un po' brutale ma davvero perdere una talenti che abbiamo formato lo sappiamo quanto costa formare queste persone le avremmo potute regalare perché quest'anno incominciano ad arrivare a scadenza molti dei contratti avviati dei contratti degli assegni avviati all'inizio dopo la 240 insomma quindi vissuto ve lo posso garantire anche con un certo tormento personale se facevamo bene facevamo male ho ricevuto molte mail di persone coinvolte che grate da una parte per l'opportunità di poter restare a lavorare all'università fermo restando in un contesto che se li tutela da una parte di alcuni diritti previdenziali dall'altro però certamente li rende diciamo i ricercatori di serie abc diciamo che non possono diciamo non hanno le stesse prerogative degli altri e di converso la richiesta di dignità la maggior parte delle mail che mi sono state inviate chiedevano dignità e io di questo come dire me ne faccio carico tant'è che poi lo dirò se c'è tempo dovremo intervenire sul preruolo facendo un po' di pulizia allora quella che vedete qui ma non la stiamo a leggere tutta vi ho segnalato però quelli che erano i passaggi più significativi forse qualcuno della rete la riconoscerà è un emendamento che presentamo alla legge 240 e che naturalmente fu discusso messo in votazione e bocciato nel disinteresse più assoluto di quell'aula è vero che la discussione in aula quella più di merito è in commissione non in aula ma era un tentativo di dare una risposta certo in un contesto sbagliato in una legge che stava facendo tutt'altro di dare la risposta alle domande che ci siamo fatti nel corso della mattinata riconosco non forse un emendamento ben scritto perché è stato scritto nella convulsa fase insieme ad alcuni di quelli di allora i promotori della rete 29 aprile è un po' come dire troppo girato con la testa verso il passato tant'è che facevamo ancora riferimento a due livelli e poi soprattutto anche se però tenevamo conto del fatto che i professori hanno i medesimi diritti e i doveri accademici salvo poi vedete qui un'attribuzione diversa dell'elettorato passivo attivo poi ci arrivo e poi c'era appunto anche qui un'impostazione che guarda all'attuale poi in realtà cioè i professori ordinari inquadrati in un primo livello gli ordinari anche l'uso delle stesse definizioni e poi però anche per la voi capite che qui ormai ne stiamo parlando da anni di questa rivoluzione necessaria alcuni sono andati avanti con una elaborazione normativa di dettaglio ma là era da qualche mese di fatto che se ne parlava quindi per esempio avevamo trovato l'escamotage non forse molto corretto di dare al ministero l'onere di individuare per esempio come qui la corrispondenza delle classi previste nel precedente ordinamento e dopo torno indietro e anche questo per il cosiddetto transitorio nella ecco qui l'ho sottolineato perché è un punto su cui secondo me dobbiamo insistere un po' di più rispetto alla discussione di stamattina ma lì lo avevamo già individuato come tema e cioè che il consiglio di amministrazione in questo caso perché ci muovevamo dentro a 2.40 però dicevamo gli atenei devono fare la programmazione del loro fabbisogno cosa che forse stamattina non è anche se so che è un tema discusso non è venuta fuori complessivamente allora anche per le frequentazioni insomma le tante riflessioni insieme che abbiamo fatto con la professoressa Tine troverete molta assonanza con alcune delle cose che ha detto lei quindi su questa prima fase io vado più veloce è stato anticipato questo escursus che anche a me serviva un po' per utili incominciare ad usare un lessico comune e quindi non mi ci soffermo sul fatto che appunto abbiamo ereditato alla fine insomma alla fine degli anni 50 un sistema dove c'erano solo i professori ordinari con però una pletora di figure che ruotavano intorno a loro e però non siamo mai arrivati nei decenni a definire un sistema abbandonato quello molto chiaro ad un sistema altrettanto chiaro sono stati sempre diversi ibridi ecco hanno convissuto ruole fasce quindi carriere uniche no separate eccetera ricordo forse una cosa a cui non si fa riferimento a cui per esempio non pensiamo ma è importante che la stessa costituzione cita per esempio i professori ordinari e li indica relativamente alla lezione di lezione dei componenti di CSM e consulta facendo riferimento ai professori ordinari che poi a quell'epoca erano i professori perché c'erano solo loro in ambito accademico ma per indicare quelli che avevano raggiunto la massima maturità di carattere scientifico e la massima competenza raggiunta nel loro ambito disciplinare di questo per esempio di questa citazione nella Costituzione poi dovremmo tenere conto allora vado veloce perché Rosario ha fatto questo lavoro che anche a me è servito e quindi non riprendo le introduzioni importanti della 382 che avendo appunto definito il ruolo dei professori nell'unitarietà della funzione sono passati molti decenni ha introdotto anche quello del ricercatore vado velocissima su questo a cui è stata riconosciuta poi la funzione di docente soltanto dieci anni dopo e così possiamo dire che appunto no scusate sono andato troppo avanti ho cliccato scusate ecco e quindi stavo dicendo che è stata riconosciuta la funzione del docente anche ai ricercatori quindi in effetti il ruolo per circa 20 anni il ruolo dei docenti si è articolato almeno in quelli che erano i fatti in tre fasce due di professori e una di ricercatori poi la Moratti ha intervenuta come sappiamo con il tentativo di cancellare poi l'ha portato a fine un'altra ministra di cancellare il ruolo dei ricercatori e quindi siamo tornati a quelli che in realtà poi la Moratti aveva con un lapsus definito livelli e non tanto e non tanto legge Gelmini allora su legge Gelmini fatemi però fare un approfondimento rispetto all'escursus di carattere di carattere normativo allora io non trovo una cosa insomma vorrei fare una valutazione anche perché l'ho vissuta diciamo così da legislatore che non l'ha approvata ha tentato di contrastarne anche proprio l'impianto o le illogicità come veniva detto stamattina eppure è una legge o una proposta che in circa sei mesi più o meno ha goduto di straordinaria fama ha goduto di una straordinaria di uno straordinario sostegno della stampa nonostante le illogicità che c'erano era facile fare le cassandre di quella proposta di legge è stata sostenuta a parte la CRU che ne ha come dire evidenziato mano a mano c'è stato ricordato quelle che erano appunto le illogicità è stata sostenuta da altri organi di rappresentanza del mondo universitario eppure è diventata come dire si è imposta all'attenzione di tutti anche grazie a alcune parole slogan ve lo ricorderete la lotta ai baroni non si capisce come con quali meccanismi ma questo ha fatto la meritocrazia quando voglio dire è stato richiamato nella diciamo così in quella carriera in quella carriera complicata universitaria si fanno valutazioni e ci si sottopone a comparazioni valutative quasi costantemente la legge Gelmini ha avuto secondo me è irrazionale in molte sue parti ha questa idea di impianto generale per cui il sistema non è più un sistema tant'è che il comma 2 dell'articolo 1 di fatto introduce un meccanismo e io credo insieme ad altri colleghi anche in costituzionale per cui il rapporto diventa anche se gli Atenei non hanno tanto proceduto a quel tipo di rapporto ma a instaurare un rapporto tra il ministero e l'Ateneo stesso e qualcuno lo ha fatto lo sapete immagino sappiate che mi riferisco e quindi devo dire ha un impianto che secondo me è di bello del sistema e però rispetto ai temi che stiamo affrontando noi appunto di fatto accelera il processo di sparizione ed esaurimento del ruolo dei ricercatori con quelle conseguenze che ci sono state richiamate un ruolo che va ad esaurimento con 20.000 persone di fatto e sostituendolo con queste due tipologie poi è chiaro che ha ragione chi ha detto che è incredibile sentirsi definire da una lettera dell'alfabeto di tipo A o di tipo B il tipo B peraltro è un errore introdotto durante l'esame al Senato sulla spinta naturalmente di chi aveva già compreso essendo precario che a quella figura di ricercatore Antonio Trecht non sarebbe mai arrivato in tempi veloci e le pressioni in quel caso per esempio anche di tutto il mondo amplissimo dei precari furono per chiedere diciamo una figura di transito ora ne paghiamo le conseguenze di quella scelta che è stata fatta in assenza di una strategia e sulla spinta di un'onda non dico emotiva ma di una richiesta che veniva dai soggetti coinvolti così allo stesso modo noi ricevemmo critiche molto accese per la nostra proposta adesso non vi ho voluto tediarvi con le autocitazioni ma con un emendamento che già allora andava a sostituire tutte le figure pre ruolo con un'unica figura di ricercatore l'avevamo definita in quella fase un ricercatore in formazione eppure le critiche più forti ci vennero mi perdonino i rettori dai rettori perché temevano un aggravio dei costi perché naturalmente era una figura che aveva più tutele di tutta quella pletora di figure che adesso tutele non hanno e dall'altra parte degli stessi precari perché si chiedevano e avevano intravristo davanti a loro stessi naturalmente già una battaglia per conquistare un posto di quell'unica figura non se ne discusse voglio dire ma l'obiettivo nostro o meglio la prospettiva in cui ci eravamo mossi era di un'assoluta consapevolezza che gli assegnisti i postdoc gli allora co-co-co-co-co-pro eccetera che affollano affollano il preruolo non sono più gestibili quella è una situazione ovviamente non più gestibile a fronte di risorse che già nel 2008 andavano calando perché nel 2008 stavamo ancora utilizzando l'incremento dell'FFO di mussi i 550 milioni contestati allora però io dico che con quei 550 milioni qualcosa negli atenei abbiamo fatto ma la 5 ma la Gelmini già aveva incominciato qualche mese prima qualche mese prima insomma all'inizio della sua carriera diciamo così nel 2008 con il taglio draconiano all'università tagliando il turnover naturalmente diciamo l'esaurimento di un ruolo affollatissimo l'istituzione di queste due figure prima una e poi l'altra hanno avuto effetti drammatici anche perché siamo passati ad un regime assolutamente non collaborativo ma fortemente competitivo tra il per ruolo e chi nell'università porta portava porta ancora parte del carico didattico un grande lavoro di ricerca come sanno i colleghi ricercatori a tempo indeterminato peraltro una cosa di cui non si parla mai è stata accennata e questa anche questa a mio avviso incostituzionale me lo riconobbe a suo tempo anche l'ex presidente della commissione affari costituzionali Bruno quando noi facciamo il parere sulla facciamo il parere in commissione sui decreti attuativi previsti dall'articolo 8 cioè quello sulle retribuzioni dei docenti la mancata perché non c'è più ricostruzione di carriera era un danno francamente importante e è passato diciamolo quasi sotto sotto silenzio e siamo adesso in una condizione in cui davvero abbiamo di fatto due ruoli perché le carriere non vengono più ricostruite quindi siamo in quella attualmente in questa situazione di separatezza vado più veloce fatemi allo scadere dei miei 20 minuti fatemi un cenno perché vado più veloce anche perché questi sono temi che sono stati richiamati no adesso sono andata troppo veloce ecco lo abbiamo detto siamo di fronte se diciamo partiamo dall'osservazione che i docenti all'università hanno stessi compiti didattici e di ricerca e anche di servizio in modo particolare però questo in base al loro ruolo allora è facile incominciare a pensare in un sistema di docente unico di ruolo unico che come dire che uno una persona percorre dall'inizio della carriera al suo pensionamento e qui anch'io incomincierei a parlare più di carriera poi adesso Camalleri che è un docente di diritto potrebbe dire ma se però il ruolo lo devi percorrere va benissimo però era proprio nella nostra comunicazione anche fuori dalle aule da queste aule potremmo incominciare a parlare di una possibile carriera unitaria che naturalmente anche io ho letto con attenzione lo sapete leggo tutti i documenti che Compass ha prodotto che ha prodotto la rete una parola che entra in modo surrettizio progressione di carriera di per sé non ha carriera credo un'accezione negativa certo se la togliamo da una da un'impostazione rigida aziendalistica di mera organizzazione ma invece la centriamo sui talenti sulle qualità e sull'impegno anche l'impegno che può essere a volte più o meno costante delle persone quindi io la uso senza vergogna mi sembra anche che sia più efficace naturalmente io che mi occupo anche di scuola so bene che cosa non accade nella scuola dove la carriera viene diciamo non esiste di fatto e viene valutato positivamente anche da un punto di vista retributivo solo l'anzianità che comunque nell'attività di insegnamento è di per sé un elemento importante perché l'esperienza accumulata è un elemento importante che va e quindi anche retribuito ma mentre nella scuola ci si ferma lì nel mondo accademico lo abbiamo già detto noi siamo abituati alle valutazioni costanti e quindi tutti i detrattori del modello che oggi stiamo discutendo possono mettersi l'animo in pace non cerchiamo non abbiamo bisogno di Opel EGIS perché ci affidiamo invece a una scansione di questa carriera futura diciamo così attraverso la valutazione della qualità del proprio lavoro del proprio lavoro didattico del lavoro di ricerca e di servizio l'ho detto volevo che rimanesse impresso non facciamo riferimento non abbiamo bisogno di una carriera gerarchizzata e quindi pensando partendo dal principio anche dichiarato da norme di legge della unitarietà della funzione cioè stessi diritti e stessi doveri eppur tenendo conto che non tutti lavoriamo all'università nello stesso modo con la stessa lena con la stessa impegno non tutti maturiamo nello stesso tempo anche i tempi di apprendimento sono diversi come la scuola ci insegna e quindi anche i tempi di restituzione non sono gli stessi abbiamo appunto esperienze e competenze diverse come possiamo tenere contemperare questi due elementi con classi preferisco parlare di quello invece che di livelli di classi di stipendiali e quindi forse di livelli di responsabilità ho messo il punto interrelativo poi ci arrivo c'è un tema che lo dicevo al mio vicino di posto al professor Cameleri c'è un tema che non è stato forse su cui non abbiamo ancora riflettuto ci arrivo fermo ristando che questa carriera diciamo così andrebbe percorsa sequenzialmente ecco un tema fondamentale veniva ripreso è che tutti abbiano la possibilità di percorrerla ah sì cinque minuti ho finito cinque minuti allora accelero però questo è un punto importante nessuno deve essere bloccato al punto in cui si è trovato per motivi che sono estranei al proprio talento e al proprio impegno lo sappiamo quali sono i motivi estranei inutile che qui ne faccia riferimento tanto li conosciamo che possono andare dai punti organico possono andare invece a valutazioni di a valutazioni di scuole di pensiero diverse a componenti accademiche diverse eccetera questo lo rimarcherei quindi professore universitario perché siamo in questo contesto dovrebbe poter promuovere e seguire questa carriera sequenzialmente anche in atenei diversi il tema della mobilità è un tema io penso nelle valutazioni finora fatte troppo poco approfondito e da percorrere però eventualmente con tempi diversi che sono con naturali devono essere armonici con i risultati raggiunti nella didattica e nella ricerca questo è un punto importante Compass lo ha ha svolto questo punto immaginando una quota base e una quota aggiuntiva diciamo così integrativa comunque sia proprio per questo aspetto di fare e percorrere questa carriera con il proprio passo è ovvio che non deve essere visto e vissuto e nemmeno nella pratica il mancato arrivo velocemente a una classe superiore come punitivo questo è un dibattito che stiamo facendo ovviamente nella scuola a proposito del decreto che dovrebbe uscire domani sugli scatti stipendiali ma e quindi è ovvio che comunque sia il mio stipendio va costantemente aggiornato e periodicamente adeguato per mantenerlo al costo della vita lo diceva molto bene la professoressa Tinè ci sono molti problemi anche se stiamo discutendo da tanto di questi argomenti e certamente lo dico soprattutto ai colleghi della rete 29 aprile e di Compass molto è stato fatto abbiamo come dire ci siamo chiarite molto l'idea restano comunque ancora alcune questioni per esempio abbiamo detto al cesso come con una forma concorsuale cioè di valutazione comparativa il tema della mobilità su cui poi torno appunto le prerogative in realtà anche nella proposta di legge perché è già un articolato molto molto ben fatto insomma molto compiuto di Compass per esempio il ruolo direttore affidato a coloro i quali hanno non vorrei citare male comunque ricevuto almeno tre di seguito valutazioni positive in quelli che vengono definiti scatti però ecco il mio essere qui oggi anche a sottoporvi il powerpoint con alcune proposte che arrivano adesso è poi di mettermi in una posizione di assoluto ascolto e di trovare insieme a voi delle soluzioni possibili rispetto ai nodi alcuni sono fortissimi come quello appunto del passaggio nella fase transitoria che vedemmo anche quando scrivemo l'emendamento nel 2010 però ecco sono abbastanza fiduciosa rispetto al 2010 mi sembra che sia cambiato l'atteggiamento anche in Parlamento e al Governo rispetto ad una valutazione ad una riflessione su questo tema della carriera unica del ruolo unico e quindi anche più vicini ad una legge allora vengo ad alcune ipotesi su cui poi immagino discuteremo nel pomeriggio nella tavola seconda nella tavola rotonda scusate adesso questo era l'argomento su cui ho cominciato a discutere con Camalleri la valutazione che fin qui questa valutazione continua nella proposta della rete della rete 29 aprile è triennale allora io ci rifletterei perché io credo che questo numero di valutazioni che sono certamente individuali non debba però essere né troppo stressante né troppo lasco quindi forse triennale è veramente troppo frequente rispetto se noi vogliamo fare una valutazione naturalmente individuale ma degli esiti raggiunti nella ricerca nella didattica e nell'attività gestionale quindi una decina quadriennale quinquennale io su questo farei ancora un approfondimento e una valutazione poi è un elemento ma che mi porto dietro come esperienza personale in entrambe le proposte il preruolo quindi le figure diciamo di ricercatore a tempo determinato che tutti invochiamo e che dovrebbe assorbire tutte le vecchie altre figure a preruolo e la figura del professor junior ecco stanno al di là del ruolo io penso che invece la figura del professore universitario cioè quello al quale noi stiamo dicendo che dovrebbe essere una delle modalità di riclutamento potrebbe stare nella prima classe stipendiale in modo da poterne valutare adeguatamente le capacità e fa già parte però caricandolo caricandolo anche di una responsabilità di appartenere a un corpo accademico già nel ruolo della carriera carriera unica con concorso locale i meccanismi che possiamo andare a definire ma insomma su questo non credo che ci siano grossi problemi poi invece passaggio da quella che io ritengo essere la seconda classe e quindi al professore universitario a tempo indeterminato qui ho scelto una locuzione un po' avrei potuto dire ad abilitazione scientifica nazionale ma poiché sappiamo come sono andate le prime due tornate piene di problemi eccetera ho utilizzato questa formula valutazione della comunità disciplinare nazionale però non siamo lontani insomma dai due sistemi e al parere favorevole anche dell'università di appartenenza questo lo abbiamo detto è uno dei principi della valutazione costante quindi dalla seconda classe in poi il passaggio a quella successiva deve richiedere il parere deve avere insomma di ottenere il parere favorevole dell'università e la valutazione dei risultati di ricerca di didattiche dell'attività gestionale veniva detto secondo me con individuazione di parametri di criteri determinati a livello nazionale perché se no rischiamo di avere un meccanismo troppo localistico ed è vero vanno bene delle compensazioni anche perché io posso immaginare che ci siano degli atenei che richiedano più attività didattica altri a cui invece interessa di più l'attività scientifica teniamone conto di queste varietà locali ma naturalmente io penso che occorrerebbe per esempio avere una griglia di criteri e parametri determinati a livello nazionale dalle comunità scientifiche io ricordo il CUN che cosa disse a proposito del dibattito perché lo audimmo anche in commissione a proposito delle mediane tema su cui non torno ecco questo è un punto che io non ho sentito io penso immagino poiché abbiamo detto che non siamo tutti uguali anche a scuola è così si apprende in tempi diversi il principio vengo da un territorio in cui abbiamo appunto dove sono nate le scuole a tempo pieno proprio per attenzione ai tempi di apprendimento c'è anche nella carriera accademica tempi diversi in cui si raggiungono esiti chi lo fa più velocemente chi lo fa invece più lentamente chi vuole dedicarsi di più ad alcuni aspetti delle tre missioni dell'università allora io penso che noi dovremmo contemperare l'esigenza di chi vuole bruciare le tappe perché percorrerle obbligatoriamente tutte questo se no rischia io credo un appiattimento un modello scuola non so come dire ecco mentre io penso che qui non faremmo nulla di male ma valorizzeremmo i talenti delle persone lo chiamiamo segno non lo chiamiamo in nessun modo quelli che maturano e che hanno un'autorevolezza internazionale viene riconosciuto eccetera non mi piccole etichette non mi piacciono lo mettevo solo come elemento eventuale rispetto per esempio anche la legge compass la proposta di legge compass lo fa rispetto alle prerogative il ruolo direttore è affidato a quelli che superano queste valutazioni positive è stato detto separiamo le procedure di reclutamento e di progressione di carriera è chiaro che il reclutamento io lo faccio con il professor giugno prioritariamente ma e qui introduco un elemento della diapo ho finito delle diapo successive noi abbiamo detto che gli atenei devono fare dovrebbero in un sistema che funziona programmazione del loro fabbisogno certo questo significa avere certezza delle risorse quindi avere riparto dell'FFO a gennaio e non a dicembre dell'anno dell'anno in corso naturalmente però in questo sistema quindi dove io costruisco un fabbisogno rispetto per esempio al fatto di voler sostenere potenziali delle discipline o settori fa sì che il sistema come lo stiamo studiando invece è molto più da percorso locale da carriera locale quindi la mobilità che è ed è un valore riconosciuto e che a mio avviso andrebbe sostenuta può essere solo una mobilità per chiamata o è anche un'opportunità per me che voglio cambiare che voglio cambiare ambiente c'è un ateneo che sta facendo delle ricerche che mi interessano stanno curando il trasferimento tecnologico cui io sono particolarmente provato ecco in quel caso di questa mobilità legata appunto anche a un'accelerazione della carriera forse la dovremmo valutare con un concorso insomma con una sorta di reclutamento e non meramente di progressione di carriera lo pongo come elemento di riflessione non ho un articolo pronto ma ho soltanto il problema che vi pongo rispetto alla comunità scientifica lo dicevo prima programmazione io penso che tutti voi vorreste partecipare a un ateneo che può fare la propria programmazione rispetto con più libertà di quanto non sia adesso per esempio richiamavo i temi di riparto dell'FFO di punti organico ancora stabiliti da Roma dal ministero dovremmo pur dire qualcosa rispetto a questo specifico tema se io ho un contingente di docenti che vanno in pensione vorrei utilizzare quel contingente per fare un reclutamento per fare progressione di carriera secondo i bisogni del mio ateneo e naturalmente in questo mondo ideale adesso diciamo così dovrei sottopormi ad una valutazione molto attenta molto scrupolosa di sistema però non solo della produzione scientifica dei singoli non abbiamo parlato ancora dei difetti della nostra valutazione comunque certo meglio di niente ma comunque certamente perfettibile ad una valutazione delle politiche di reclutamento rispetto ai singoli ma soprattutto rispetto al sistema diventeremmo più responsabili in questo modo certamente io ho concluso e ripeto e concludo davvero di nuovo ringraziandovi con questa opportunità e sperando che nella tavola rotonda di oggi pomeriggio possano venire ulteriori stimoli per incominciare a mettere in campo e quindi anche nell'agenda della parlamentare una discussione su questo ruolo unico o carriera unica grazie 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 infinito anche per il ruolo appunto della politica all'interno di questo di questo nostro dibattito io lascio la parola all'ultima relatrice che è Mila Spicola membro della direzione nazionale del partito democratico e della segreteria tecnica del sottosegretario al MIUR l'onorevole Davide Faraone intanto inizio con i ringraziamenti agli organizzatori e all'Ateneo per aver ospitato questa secondo me importante momento di riflessione su un argomento a cui alcuni di noi tengono per cui ci siamo per questo motivo il mio ruolo che doveva essere un po' più personale invece adesso si carica di impersonalità perché vi porto i saluti del sottosegretario che non potrà essere presente perché inizialmente pensavamo di consegnare la settimana scorsa il decreto invece è stato spostato a domani per cui è trattenuto a Roma la mia presenza qua oggi è più che altro per esserci intanto è per assistere al ascoltare le relazioni e assistere al confronto e il tema è importante però anche dalle relazioni dei rettori lo abbiamo allargato ad altri temi ad altre questioni più di sistema e anche di ruolo cioè la parola è proprio quella lì è il ruolo è il ruolo che non è solo il ruolo unico di cui abbiamo parlato oggi ma è il ruolo del sistema universitario in un paese che sta cambiando in una politica che sta cambiando in un governo che è cambiato in condizioni mutate i problemi li avete elencati tutti ovviamente quello delle risorse ovviamente quello della necessità di riflettere di nuovo insieme se ridefinire le condizioni o aggiustarle e questo penso che sia il momento da cui partiamo cioè qua a Bologna Matteo Renzi ha detto che quest'anno dovrebbe essere l'anno della costituente sull'università bisogna pure capire che cosa significa costituente cioè costituente di ruoli e di funzione di organizzazione di risorse di destinazione qualche cosa ha cominciato a dirla però io spero che siano cose su cui ci confronteremo spesso per cui in qualunque luogo ci sarà da confrontarsi insieme noi cerchiamo di esserci non solo ma come partito come ministero nei vari ruoli che un po' ora si si confondono visto che siamo partito di governo e ministro di partito molti li organizzeremo noi come quello del 26 che è già c'è stato scusate se passo un po' dal merito al metodo dalle questioni più specifiche a quelle più vaste in questi anni qualcuno di voi l'ha detto c'è stata una una narrazione terribile sull'università però dovremmo cominciare io ho fatto parte dell'università sono una di quelle che è stata espulsa dal sistema quindi a un certo punto dovevo decidere se essere un cervello in fuga ho preferito essere un insegnante in fuga in un quartiere a rischio per cui ora ho anche la visione diciamo delle difficoltà del mondo scolastico per cui diciamo da zero a 25 anni che è un po' 26 la media dei nostri laureati diciamo il quadro è completo sia della scuola che dell'università ci sono state delle delle narrazioni a volte che hanno fatto comodo e altre volte però ce lo dobbiamo dire che sono dipese anche da noi cioè io oggi ho sentito parlare dell'importanza del capitale umano del nostro del vostro ruolo unico che è fatto anche di funzioni scientifiche di ricerca didattiche di organizzazione dentro l'università ma forse per farci comprendere fuori perché attenzione noi non riusciremo ad attrarre risorse a portare l'università nel dibattito del paese se non riusciamo a parlare col fuori e col paese dovremmo ricominciare a recuperare il ruolo sociale sia dell'università che della docenza universitaria e anche soprattutto perché lì il nervo scoperto ancora nella opinione comune il ruolo etico perché noi sappiamo bene che non tutte le situazioni sono uguali però l'impressione che si ha fuori è sempre quella di un mondo chiuso di un mondo tutto sommato cooptativo in cui ancora adesso certi meccanismi sono difficili da scardinare e sta a noi anche attraverso procedimenti politici legislativi ma anche interni al mondo universitario tentare di di regolarizzare e di organizzare in modo trasparente serio e etico quello che andiamo a fare perché solo così noi potremo diciamo tornare a un'attenzione che è anche economica perché anche la scuola dieci anni fa aveva lo stesso problema e anche il ruolo sociale degli insegnanti della scuola voi sapete bene che ha avuto delle difficoltà enormi però se adesso si dedicano tantissime risorse badate bene 4 miliardi sull'edilizia più o meno e 3 miliardi sul piano di stabilizzazione è perché la necessità di farla di farlo è venuta dal paese e allora io mi chiedo nel paese adesso c'è questo occhio di riguardo per il mondo dell'università e della ricerca quanti sono i nostri iscritti in Italia qualcuno l'ha detto i nostri laureati i nostri fuori corso se passa e non è sappiamo che è un problema di risorse di tutto quello che avete detto però non solo perché se noi interroghiamo bene i nostri ricercatori o i nostri giovani all'estero non ci parlano solo di problema di risorse ma ci parlano anche di meccanismi di libertà di merito e di valutazione che non dipendono solo dalla politica ma dipendono anche dal mondo interno universitario quindi io ne parlo insieme perché credo che affrontare questi questi temi aiuti poi a portare avanti le ragioni dell'università e della ricerca sul ruolo unico abbiamo stamattina detto più o meno più o meno tutto ora si tratta un po' di capire se altri non voglio dire la parola d'accordo ma se convengano sulla necessità penso di sì spero di sì abbiamo detto che siamo contro un'organizzazione gerarchica però sappiamo che è necessaria un'organizzazione per cui definire bene le funzioni perché poi alla fine anche se non abbiamo delle distinzioni diciamo legislative o teoriche poi ci saranno delle differenze di fatto di funzione e allora il male della differenza della funzione non è stata della funzione ma dell'esercizio spesso strano o irregolare di quella funzione quando si è trasformato in meccanismo di potere e allora penso che lavorare bene e approfondire bene queste cose aiuta le ragioni o la ragione o la necessità di un ruolo unico e ovviamente il nodo sarà sempre tra autonomia valutazione e responsabilità io credo che la comunità scientifica italiana accademica sia autorevole una delle migliori e forse dobbiamo essere più trasparenti e più più aperti agli altri lo ripeto di nuovo perché dobbiamo iniziare a comunicare con altri mondi per lavorare su noi stessi lavorare con quello che accade prima dell'università e quello che accade dopo e allora tutte quelle funzioni verranno di nuovo ridefinite con nuove funzioni che sono quelli dell'orientamento del tutoraggio e anche dell'accompagnamento e anche del cominciare a parlare Manuela parlava di trasferimento tecnologico che non è un problema strato ma è un problema concretissimo in Italia della nostra università insomma io mi fermo qui perché poi non vi dico niente del governo perché oggi non tocca a me dirlo e ripeto era un modo per ascoltarvi e parlarne insieme però vorrei che tra un paio di mesi questa discussione la prendessimo di nuovo nel momento in cui si comincerà veramente a mettere della carne al fuoco sui temi dell'università e della ricerca grazie ringrazio molto Mila Spicola anche per l'apertura appunto ad un dialogo tra l'università e la politica che possa davvero continuare allora la giornata si conclude qui la mattinata sì no scusate la mattina magari scherzo la mattinata si conclude qui riprendiamo alle 15.30 dopo la pausa con la tavola rotonda nella sala del consiglio di facoltà al piano di sotto sappiamo già che non ci sarà appunto la chiusura della tavola rotonda da parte dell'onorevole Davide Faraone e avremo anche l'assenza del professor Nunzio Miraglia che avrebbe portato appunto questa voce più ampia e completa di questo dibattito essendo il rappresentante dell'intersindacale e quindi di questo dibattito allargato che stiamo svolgendo con tutte le sigle diciamo che si occupano dell'università e con le quali abbiamo raggiunto appunto un punto di accordo molto proficuo sul tema del ruolo unico della docenza universitaria